Siamo qui oggi con Giovanni Zibordi, per questo appuntamento ho chiamato Riformare il debito, la soluzione operativa dei conti correnti di risparmio. Giovanni Zibordi in dialogo con Marco Cattaneo e Marcello Spano. Giovanni Zibordi, consulente finanziario, cura il sito Cobraf.com, prima laurea presso l'Università di Modena, poi ha proseguito gli studi alla Sapienza di Roma e poi in USA all'UCLA, presso la quale consigue un master in Business Administration. Sin dal 1990 è consulente per aziende multinazionali. Allora vi leggo la descrizione in merito all'appuntamento di oggi. John Cochrane, top economist della Scuola di Chicago, ha proposto negli Stati Uniti d'America di riformare lo stock di debito pubblico eliminando l'attuale struttura di emissioni di titoli di Stato e sostituendola con un nuovo servizio di gestione del risparmio finanziario privato per mezzo di conti correnti di risparmio offerti dallo Stato. Quali potrebbero essere le implicazioni nell'attuare questa soluzione operativa in Italia? Ne parliamo con Giovanni Zibordi, consulente finanziario, insieme con Marco Cattaneo del gruppo della monetà fiscale e con Marcello Spano dell'Università dell'Insubria. Allora prima di dare la parola a Giovanni, faccio vedere velocissimamente due brevissime slide per inquadrare la situazione. Grazie. Allora questo è, scusate è un po' piccolo, però diciamo è lo schema che si può trovare in macroeconomics di volume di macroeconomia, macroeconomia universitario di Mitchell Ray Roths, in cui in sostanza si descrive così lo schema diciamo MMT, cioè noi abbiamo in alto il settore pubblico il quale mette la valuta, al centro abbiamo il settore non pubblico che riceve la valuta, poi sotto abbiamo la tassazione che funge da togliere diciamo denaro dal sistema economico e poi abbiamo a sinistra il debito credito, cioè appunto il credito bancario e poi a destra il risparmio. Andiamo alla seconda slide. ecco la proposta di oggi è una proposta ragionabile sull'interazione tra il settore non pubblico e il settore del risparmio. Quindi diciamo così è un qualcosa che serve per fornire un servizio da parte dello Stato di tipo nuovo nei confronti dei risparmiatori. Ecco quindi adesso farei partire il video con Peter Pratt, dove Peter Pratt è un capo economista presso la BCE che ci parla di come viene creato il denaro. C'è un capo economista? E' un capo economista? if I can say we credit accounts that people will not understand again it's an image so I mean this is off now I could say I print banknotes but it's an image it's not the way we do because it goes via the banking system so how would you say that because no no it's not wealth, no we create money, it's not lending money we create money we lend to commercial banks and the moment of this lending creates money no no I see what you mean but it's not even true what you say let me give that's the classical way nobody is going to understand what you say but normally I would just think about the situation I print banknotes I just in my office I print banknotes and with these banknotes I will buy you something and I give you this banknote and you give me a bond that you have bought before you have a you know you have a treasury bill you know in your investment and then you you sell it to me and I give you cash which I have produced but we do that electronically prego Giovanni a te la parola partendo dal commento del video e poi dopo anche dalla tua presentazione fate passare le slide riuscite a far passare le slide ecco benissimo allora dico solo come premessa dico solo una osservazione sulla comunicazione secondo me Francesco dovrebbe parlare con un responsabile di comunicazioni per rendere la cosa più come dire più vivace ed eccitante perché questa è una proposta abbastanza rivoluzionaria abbastanza anche eccitante se vogliamo e quindi all'inizio sembrava invece che fosse così una cosa tecnica che fa venire sonno allora questa è la moneta elettronica del tesoro nella definizione e nella concezione di Cochran quindi treasury electronic money con cui tu sostituisci i titoli di stato i BTP che creano la spread questa è una cosa che fai perché adesso la tecnologia consente e questo è essenziale da dire subito dieci anni fa non lo potevi fare forse anche sei sette anni fa era difficile forse sei anni fa era già possibile perché Cochran ha cominciato a scrivere nel 2015 16 eccetera ma prima no perché occorre innanzitutto che i pagamenti siano fattibili senza costi e istantanei tu in pratica dici se io ho un titolo titolo di stato in questo caso non deve rimanere fermo lì per 5 anni o 10 anni fino a quando scade come è sempre stato per centinaia di anni oggi la tecnologia consente di usarlo per fare dei pagamenti io ho 50.000 euro in BTP e ho bisogno di pagare l'albergo pago l'albergo addebitando i 50.000 che diventeranno 49.920 e questo è un fatto tecnologico perché una volta avresti speso innanzitutto ci volevano un paio di giorni per vendere i BTP forse anche di più e poi ricevere i soldi nel conto corrente primo secondo ti costava talmente tanto che potevi farlo appunto soltanto per delle transazioni importanti e dove non avevi fretta qui stiamo parlando del fatto che i tuoi BTP funzionano come un conto corrente e questo è l'essenza dell'idea e ripeto e si basa sulla tecnologia innanzitutto sulla tecnologia e poi vedremo anche il resto quindi andiamo avanti per favore scusate che ho messo troppo tempo con questa slide allora prima però facciamo un passo indietro perché parliamo di queste cose si vede poco la slide se si può tirare un po' su allora io prendo il problema dell'Italia si può prenderlo a tanti punti di vista da quello degli stipendi in 30 anni l'unico paese industrializzato OXE in cui gli stipendi invece di aumentare come è successo dappertutto dappertutto da noi sono calati al 3% se riuscite a tenere la slide più su perché io la vedo tagliata non so gli altri come la vedano andiamo avanti fatele pure passare ecco questo la Francia più 30% noi meno 3% parliamo degli ultimi 30 anni qui ci sono i paesi europei ma se mettevamo quelli asiatici era anche peggio anche Sud America ovunque nel mondo gli stipendi medi sono aumentati meno l'Italia non è possibile che questo succeda solo a noi ci deve essere per forza qualcosa di sbagliato nel nostro sistema e siccome noi lavoriamo come più o meno lavorano tutti gli altri come lavoravamo negli anni 80 o prima ci deve essere qualcosa di sbagliato da un'altra parte nel sistema monetario e finanziario andiamo avanti e il punto su cui mi concentro per esigenze anche proprio di andare all'essenziale perché si potrebbero parlare di 200 cose è il crollo della natalità perché con il lockdown abbiamo avuto un ulteriore crollo e ormai stiamo sparendo quindi da voglio dire negli anni 90 quando l'economia ancora andava 570.000 nati adesso siamo ormai a 380 di cui gli italiani diciamo indigeni 320 330 quindi è un paese che sta semplicemente estinguendosi lentamente andiamo avanti e quindi voglio dire se uno guarda avanti non si limita a così a Mattarella Draghi le piccole cose guarda avanti di qualche anno forse anche un po' di più di qualche anno siamo un paese che verrà sostituito da altre popolazioni può essere una cosa buona per alcuni ma non per tutti forse bisognerebbe chiedere agli italiani cosa ne pensano di questa cosa andiamo avanti e quindi noi veniamo sostituiti da altre popolazioni perché non facciamo figli non facciamo figli perché gli stipendi sono bassi gli stipendi sono bassi perché in 30 anni siamo gli unici che li hanno fatti calare quando tutto il mondo grazie alla tecnologia li ha fatti aumentare quindi noi stiamo parlando di una cosa grossa e vogliamo risolvere questo problema essenziale fondamentale della società italiana andiamo e quindi niente anche se è un fatto lento e quindi non stiamo parlando di una cosa di attualità tipo la manovra di bilanto è utile fare un contesto e dire da dove arriviamo e dove stiamo andando e dove stiamo andando è all'estinzione se vogliamo drammatizzare un pochino ma non tanto e semplicemente guardare avanti e noi vogliamo oggi provare a dire che cosa si deve fare allora di solito è colpa del debito pubblico con il covid è andato al 100 questo non è aggiornato ormai siamo al 162 per cento andiamo avanti andate pure avanti io vi seguo voi modificate le slide io vi corro dietro ma se fosse vero la prima e più semplice obiezione è che i BTP avrebbero dovuto soffrirne giusto tu prendi troppo debito e cosa succede i tuoi titoli di stato perdono vanno giù i tassi aumentano il contrario è successo da quando è nato via Berlusconi che c'era il spread di BTP io ho usato il rendimento qui è incorporato anche il rendimento si usa un future continuo e qui vedi che da 60 70 80 siamo arrivati a 160 quindi il BTP è stato il più bello investimento del mondo e ha dimostrato che più aumenta il debito e più calano i tassi e più ci guadagni con i titoli di stato che è tutto il contrario di quello che è stato predicato da 9 esperti su 10 e ovviamente la ragione è questo non è un mistero che li ha comprati tutti la BCE e Banca d'Italia in particolare l'85% lo compra Banca d'Italia e qui vedi in rosso quello che sarebbe il debito pubblico di cui parlano i giornali in blu quello vero che è quello che è sul mercato perché è quello sul mercato che crea la spread e tu vedi che dal 2014 in poi è calato ecco allora per sintetizzare io faccio sempre vedere il Giappone il doppio del debito pubblico il PIL che aumenta noi con un debito pubblico inferiore al Giappone di molto un PIL che cala da 20 anni quindi se il paese che ha più debito pubblico al mondo che è il Giappone ha fatto aumentare il PIL pro capita è anche parecchio una volta eravamo pari con i giapponesi negli anni 90 adesso loro 48.000 noi 36.000 35.8 quindi in 30 anni loro sono andati quasi di un quarto sopra il nostro reddito pro capita con il doppio di debito pubblico questo dovrebbe essere sufficiente a dar ragione alla MMT in generale e a è torto a tutti gli altri esperti e e qua di nuovo vi ho fatto vedere gli stipendi e qua il reddito pro capita è calato in Italia del 7.8% però cosa ha fatto ho evidenziato il Giappone se prendiamo il reddito pro capita che è molto meglio del PIL perché il PIL dipende se tu fai entrare 50 milioni di immigrati come hanno fatto gli Stati Uniti oppure se hai un'altra natalità come hanno alcuni paesi ad esempio la Francia la Danimarca allora il PIL aumenta anche per la popolazione ma devi guardare alla persona media il cittadino medio quindi il reddito pro capita il reddito pro capita dei giapponesi è aumentato al 7% il nostro è calato del 7.8% questo era un dato dell'anno scorso poi col Covid le cose stanno cambiando in realtà peggiorano ancora però voglio dire parliamo di una differenza enorme anche solo dal 2007 allora il Giappone finanzia tutto dall'interno quindi non solo la banca centrale anche le banche i fondi pensione giapponesi come tutti sanno se vai in banca e chiedi un titolo giapponese il promotore o lo sportello ti dice ma di cosa sta parlando nessuno compra titoli di stato giapponesi all'estero e loro si finanziano all'interno quindi noi parleremo stasera di come finanziare l'Italia dall'interno come fanno i giapponesi con un sistema diverso perché siamo dentro l'euro però l'idea è quella che tu ti puoi finanziare il debito pubblico dall'interno e quindi renderti libero e diciamo indipendente dal mercato finanziario e dal ricatto della spread allora il punto che in questa presentazione cerco di martellare è che il problema dell'Italia è un problema di finanziare l'economia in generale tutta l'economia le piccole imprese le grandi e medie imprese le famiglie noi abbiamo e ovviamente il deficit pubblico noi abbiamo un problema di far finanziare la nostra economia come gli altri paesi perché per una serie di errori e non solo errori abbiamo da 25 anni 20 anni un sistema in cui l'economia è poco finanziata molto meno degli altri facciamo esempi veloci questo per insistere sul fatto che non c'entra che abbiamo un debito pubblico alto il debito pubblico e questo era un dato che si fermava prima del covid che poi è esploso ancora di più di quasi un 20% il debito pubblico non fa che aumentare nel mondo sono 20 anni che anche prima del lockdown che l'ha fatta ulteriormente esplodere il debito pubblico aumenta sempre quindi noi non parliamo più ormai nel mondo di ripagare il debito pubblico o stupidaggini del genere si parla semplicemente di come rifinanziarlo ecco e poi ovviamente il problema vero è che il debito non è solo quello pubblico ma anche quello delle famiglie delle imprese e delle banche e i giornali finanziari sono pieni anche in particolare questo mese proprio ultimamente di editoriali notizie e discussioni sul fatto che il debito di tutto il mondo è arrivato a 300 mila miliardi 300 mila miliardi il nostro debito pubblico sono quanti in dollari saranno meno di 3 mila 2 mila e 9 in dollari ma il debito pubblico nel mondo è 300 mila miliardi quindi il nostro debito pubblico è in pratica l'1% l'1% del debito che c'è nel mondo quindi non ci si rende conto del fatto che l'economia mondiale sta funzionando semplicemente con sempre più debito e in qualunque modo tu lo guardi quello pubblico quello privato il debito globale in particolare poi con il covid in particolare in America è semplicemente esploso quindi parlare ancora del problema del debito pubblico italiano è sempre più ridicolo e io qua ho semplificato molto però ecco qual è il problema il debito totale sono 300 mila miliardi 300 mila 300 mila è aumentato ancora in modo drammatico negli ultimi due anni un anno e mezzo di covid e lockdown e il pil globale è un terzo 90 mila meno di un terzo qual è quindi il problema non di ripagarlo nessuno sano di mente dice che il debito viene ripagato il problema è rifinanziarlo quindi hai bisogno di sempre più liquidità perché quando questo debito che sono 300 mila miliardi ha una scadenza media di 5 anni quindi cosa vuol dire 60 mila miliardi all'anno vanno rifinanziati debito di imprese di banche di famiglie di stati il debito è 300 mila e tu siccome ha una durata media facendo proprio una media di 5 anni 300 diviso 5 diviso 5 fa 6 60 mila 60 mila miliardi vanno rifinanziati ogni anno e le banche centrali sono disperate di creare sempre più soldi come ha dimostrato in modo buffo l'economista che abbiamo mostrato all'inizio devono a tutti i costi consentire che questi 60 mila miliardi all'anno di debito totale nel mondo vengano rifinanziati nessuno parla nessuno si sogna di dire che vada ripagato semplicemente si cerca di evitare che continui ad esplodere e cercare di rifinanziarlo questo è il mondo questo è come funziona il mondo oggi e quindi noi quando parliamo dell'Italia dobbiamo toglierci dalla testa l'idea che è un problema nostro di debito pubblico nostro noi viviamo in un mondo in cui tutto funziona con il debito e debito che non fa altro che salire in modo quasi esponenziale questo è un articolo proprio di ieri sul Financial Times di una persona di un personaggio molto importante che ha scritto tanti libri e report e lui ti riassume la situazione ti dice la liquidità globale è arrivata con il lockdown a 172 mila miliardi liquidità sono i soldi proprio liquidi che la gente può utilizzare istantaneamente non stiamo parlando di investimenti soldi o addirittura immobili proprio i soldi liquidi che è una cifra incredibile e c'è stato un aumento del 60% delle banche centrali dei loro bilanci quello che diceva sempre quella simpatica economista tedesco Buffal all'inizio e l'hanno dovuto fare perché la liquidità è aumentata del 30% grazie alle banche centrali per reggere il peso di tutto questo debito addizionale che con il lockdown hanno buttato sull'economia mondiale e quindi tu oggi hai tutti i giorni sui Financial Times Bloomberg nei report di Morgan Stanley insomma della gente che ha sui mercati finanziari continuamente questa discussione come si tirerà avanti con questa massa enorme di debito che va continuamente rifinanziato e per il quale le banche centrali devono sempre immettere liquidità e di nuovo se parliamo ad esempio questo è aggiornata qualche mese fa non proprio la data di oggi però il Canada è aumentato il debito in un modo quasi ridicolo 80% qui parliamo proprio dell'aumento da quando c'è il Covid il Giappone è 50% gli Stati Uniti 44% cioè anche l'Italia ovviamente ha fatto aumentare il debito perché abbiamo fatto deficit di quanto? abbiamo fatto deficit del 12 13-14% per la prima volta in 40 anni ma gli americani li hanno fatti del 22% e per cui anche la nostra risposta al Covid o meglio dire al lockdown è stata in realtà anche in questo caso inferiore a quello degli inglesi degli americani della Cina del Giappone del Canada tutti questi paesi hanno pompato molto più soldi e molto più debito di noi con il lockdown io ci tengo anche non voglio divagare però rendiamoci conto che la Cina 20 anni fa aveva soldi in banca come noi come l'Italia adesso ne ha 40 mila miliardi allora ne aveva 6 mila miliardi come hanno fatto i cinesi a trovare tutti questi soldi voglio dire 2 o 3 mila miliardi sono arrivati dal saldo dell'export del surplus che hanno con l'estero forse anche 4 mila forse anche 5 mila ma non 40 mila i cinesi hanno stampato denaro più di tutti e ovviamente l'America ha fatto 3 mila miliardi di deficit e questo lo dobbiamo ripetere perché sembra che se tu ascolti i nostri esperti è un dettaglio che facciano 3 mila miliardi gli americani 3 mila noi ne facciamo 100-120 col Covid loro 3 mila 3 mila miliardi ha fatto l'America di deficit in un anno 20% del P allora arriviamo più vicini all'Italia il fulcro di questa piccola cosa di stasera è fare vedere che l'Italia può finanziare meglio la sua economia come fanno gli altri andiamo più vicino prendiamo la Francia la Francia è dentro l'euro è di fianco a noi è simile a noi è il paese forse più simile economicamente all'Italia la Francia ha fatto aumentare il PIL e l'ha fatto aumentare quanto la Germania se poi lo prendi pro capite è leggermente diverso però la crescita del PIL della Francia e della Germania è stata uguale con l'euro quindi Bagnai e Borghi che dicevano che senza l'euro non puoi fare niente non hanno ragione se vogliamo proprio semplificare al massimo perché ha di fianco a noi la Francia che con meno produzione industriale e un deficit con l'estero cronico quindi un'economia molto più forte della nostra a differenza della Germania è riuscita a tenere il passo alla Germania e il debito pubblico quindi nel caso della Germania è calato in percentuale del PIL allora qui arrivano i vari voglio dire Giannino o altri esperti però non vanno mai a vedere la Francia perché la Francia ha fatto aumentare il debito pubblico molto più della Germania e ha tenuto il passo con la Germania questo ci dimostra che anche noi possiamo fare come la Francia ok se uno avesse ancora dei dubbi qui c'è una delle tante scusate non tabelle grafici che mostrano come sta l'Italia se prendi il debito pubblico quello delle famiglie quello delle imprese eccetera noi siamo un po' sotto la media meno di tanti altri paesi al mondo c'è sempre qualcuno che può avere un po' di meno di noi la Germania ovviamente ma poi la maggior parte dei paesi hanno più debito di noi in totale e allora arriviamo al problema in estrema sintesi io provo a far vedere che il fatto che manchino i soldi in Italia sostanzialmente che circolano è dovuto al sistema bancario che abbiamo che è diverso quello degli altri paesi che non produce credito anzi è tagliato il credito eccetera non potendo nazionalizzare le banche o fare cose più drastiche allora bisogna andare per gradi e provo a illustrare una soluzione però teniamo presente che è molto importante che gli altri paesi hanno risolto il problema dell'euro in particolare Spagna Francia Portogallo e non solo semplicemente pompando il credito con le banche e qui lo vedi bene l'Italia ha un 110% del PIL e la Francia 260% del PIL noi siamo il paese in cui il sistema bancario e in generale il sistema finanziario perché poi ci sarebbe ad esempio in America oltre alle banche c'è anche il mercato obbligazionario che è enorme noi abbiamo un mercato obbligazionario a sfitti con un sistema bancario in mano a azionisti esteri che segue delle logiche diciamo completamente strane all'economia italiana e il risultato è che il principale veicolo di produzione di denaro che circola nell'economia che sono poi le banche purtroppo al momento ancora non il deficit pubblico in Italia è bloccato ed è quello che ci ha sostanzialmente rovinato economicamente come ho fatto vedere all'inizio con gli stipendi allora qui facciamo anche la Spagna la Spagna ha fatto meglio di noi se guardiamo le statistiche del PIL e del reddito pro capita e perché perché ha pompato il credito con le banche non c'è discussione non c'è discussione cioè gli spagnoli sono arrivati al 270% del PIL 270 a noi rompono i coglioni perché abbiamo avuto un debito pubblico 130 del PIL il PIL in Spagna hanno fatto 270% del PIL entrando nell'euro e in quel modo hanno pompato l'economia allora persino Draghi capisce questa cosa quando voleva farsi assumere come presidente del consiglio due anni fa ha scritto un paio di articoli su Financial Times in cui ha detto la cosa corretta e cioè io ho riprodotto il suo articolo e lui ha detto le banche possono possono estendere possono estendere tutta l'economia extend across the entire economy perché ovviamente sono dappertutto e creare denaro istantaneamente can create money non ha detto prestare ha detto creare denaro consentendo alle imprese e alle famiglie di avere soldi e diventano un veicolo della politica economica del governo e fornendo il capitale e il denaro avendo dietro però in questo caso la garanzia pubblica cioè Draghi ha diciamo in sostanza spiegato quello che stavano facendo tutti non solo il governo italiano con Conte ma quello americano inglese cinese giapponese lo Stato dava garanzia alle banche gli garantiva anche il 90 o 100% nei prestiti Covid e in quel modo le banche pompavano i soldi al posto dello Stato ma avevano dietro la garanzia pubblica quindi era un sistema diciamo misto che è stato adottato con il Covid per cui oltre ai deficit pubblici davi garanzia alle banche e gli dicevi tu pompa soldi nell'economia che ci sono dietro io e lo Stato e l'ha scritto Draghi e a riprova però di quello che dicevo prima qua faccio vedere come hanno fatto i vari paesi la Spagna la Francia e l'Italia in particolare e tu vedi che come al solito i francesi sono quelli che hanno capito di più il meccanismo forse perché vengono tutti dalle grandi scuole sia il Ministro delle Finanze del Tesoro o il Presidente del Consiglio come Macron sia i capi delle banche erano tutti a scuola assieme in queste grandi scuole col normale col Politecnica eccetera e evidentemente hanno un livello diciamo di comprensione dell'economia diverso dai nostri e loro sfruttano sistematicamente il sistema bancario nazionale francese che non lasciano in mano agli stranieri come abbiamo fatto noi che abbiamo banche in mano azionisti esteri ormai per più della metà e quindi hanno pompato molti più soldi tramite le banche anche recentemente l'Italia ha fatto qualcosa qui si vede ma tutti i paesi hanno avuto questo balzo del credito quindi denaro che girano nell'economia grazie alle garanzie pubbliche grazie allo Stato che dava garanzie però di nuovo si vede che i francesi sono quelli che capiscono di più questo concetto la linea grigia sono i francesi allora ritornando all'inizio quel bellissimo video che ha fatto vedere Francesco noi dobbiamo sempre ripetere che e lo dice qui la banca centrale europea in un suo tweet che mi sono salvato che il denaro viene creato non devi cercarlo non sono risorse da cercare lo creano le banche commerciali condietro lo Stato e lo crea la banca centrale ovviamente quindi i soldi non devi trovarli devi semplicemente crearli e qui sto ovviamente battendo alla morte il concetto ma ho avuto una volta l'occasione di vedere un tweet del vice di Draghi perché Costancio è un economista spagnolo che era il vice di Draghi quando Draghi era presidente della BCE e lui è entrato su Twitter a gamba tesa in una bella discussione in cui c'era della gente che diceva che non è vero che le banche creano il denaro ma no la creazione del denaro che espande l'economia non viene dai risparmi non devi risparmiare lo crei il denaro e in particolare sono le banche che creano la stragrande maggioranza del denaro non intermediano il risparmio non prendono soldi da una parte perché stanno lì dall'altra ma lo creano dal niente e l'ha detto il vice di Draghi e anche qua abbiamo chiuso la discussione ma ovviamente tra di noi non sui media italiani e sempre per finire la Francia 210% del PIL come credito totale dato di un anno e mezzo fa l'Italia la metà andiamo avanti le banche francesi sono il doppio di quelle italiane tu guarda è intesa è unicredit è unicredit da quasi 1000 miliardi è intesa un po' meno 800 fai tutta la somma arriviamo a 3000 3500 fai la somma di Societe Generale BNP Paribas Credit Agricole e le banche francesi arrivi quasi 10.000 miliardi sono dei mostri sono banche gigantesche e banche che hanno sostenuto come ho fatto vedere l'economia italiana questo è un altro modo di vederlo puoi vederlo dal lato del credito il credito che ricevono le famiglie e le imprese e puoi vederlo dal lato invece di chi i soldi li dà che sono le banche e qui vedi che le banche francesi sono il doppio delle nostre ma l'economia francese non è il doppio della nostra c'è una differenza del 15% di PIL e qui c'è una differenza di più del 100% di credito quindi il concetto è altri paesi all'interno dell'euro hanno finanziato l'economia in modo più che sufficiente come ha fatto la Francia la Spagna e il Portogallo e noi no e l'Olanda adesso andiamo avanti qui l'Olanda che è un caso quasi scandaloso noi abbiamo i giornali italiani che parlano del premio orlandese Rutte che va in bicicletta per risparmiare gli olandesi sono frugali poi vai a vedere e sono indebitati fino al collo per comprare la casa hanno una percentuale di debito delle famiglie in particolare non solo delle imprese come la Francia che è la più alta del mondo o quasi però sono frugali ecco allora arriviamo adesso al deficit pubblico che è la cosa poi che vogliamo risolvere perché ripeto se potessi nazionalizzare le banche o cambiare il modo con cui funzionano il tipo di personale il tipo di azionisti avere un sistema bancario che risponde a quello che gli dice il governo per cui se il governo gli dice come in Spagna come in Francia come in Giappone come in Cina ovviamente ti dice guarda che abbiamo bisogno che tu faccia questo si mettono d'accordo dietro le quinte ovviamente e in cambio c'è un Dow Des e le banche pompano il denaro noi abbiamo dei politici che non capiscono assolutamente niente di come funzionano le banche e il sistema finanziario a differenza di quelli di altri paesi in Cina in Giappone sono competenti in Francia sono competenti in Spagna hanno avuto De Guindos e adesso quella signora che non mi ricordo più il nome bionda che è bravissima sono gente molto competente e capiscono questo concetto quindi purtroppo noi non possiamo agire molto sulle banche se potessimo farlo anche quello sarebbe importante allora dobbiamo agire sul deficit e cosa succede con il deficit qui c'è la manovra di Draghi tu vedi che lui sta tagliando di tre punti percentuali e rotti quest'anno il 2022 rispetto al 2021 il deficit con l'applauso di gli altri partiti inclusa anche purtroppo la Lega e quindi tu hai una manovra diciamo di contrazione recessiva anche e non se ne rendono conto i nostri purtroppo i nostri giornali i nostri politici per cui sta tagliando i tre punti percentuali il deficit con Draghi e prevede di tagliarlo ancora di più allora cosa possiamo fare dobbiamo finanziare dall'interno il deficit non di nuovo sempre con la vendita di VTP che ci espone ricatto della spread e in questo modo fare dei deficit almeno all'8% come dice Warren Mosler quindi non ridurre al 5 poi al 4 poi al 3 come sta per fare Draghi col plauso di tutti perché lui è competente e ritornando ai vecchi tempi di quando stavamo sotto il 3% o giù di lì ma andare all'8% perché ripeto non abbiamo il volano delle banche come gli altri paesi quindi la condizione è minima perché l'Italia perlomeno stia a galla nei prossimi anni e soprattutto a quest'anno è riportare il deficit su all'8% non farlo scendere giù al 5 e per farlo devi finanziare dall'interno il deficit con soldi che sono già in Italia se tu continui a vendere il BTP che comprano le banche estere o la BCE eccetera sei esposto ai ricatti e ti possono da un momento all'altro dire riduci il deficit altrimenti la spread si alza quindi noi abbiamo due leve la moneta fiscale che è stata discussa già dal 2014 in particolare da me Cataneos e Loslabini Bossone Costa e tanti altri sono stati scritti due libri sono stati fatti disegni di legge si è concretizzata nel super bonus e però come vedremo insomma anche l'opposizione forte della Banca d'Italia e possono mettere i bastoni tra le ruote e poi la moneta elettronica del tesoro che è la cosa di stasera che da un paio d'anni ho cominciato a fare circolare e che è un'idea appunto di questo economista americano per l'America applicata però qui all'Italia allora andiamo veloci io ho scritto questo libro assieme a Marco anni fa parlando appunto della moneta fiscale di cercare rimanendo dentro l'euro di creare denaro andiamo avanti e ne abbiamo scritto un altro abbiamo dato diciamo l'esca ad un movimento che ha portato a parlare di moneta fiscale e anche a presentare disegni di legge su questa parte andiamo più veloce perché spero che molta gente già lo sappia poi alcuni che hanno sentito quello che predicavamo erano ad esempio qui a Bologna nostro amico che ha creato moneta positiva lui è un ingegnere di ile però si è da solo praticamente ha mosso parecchio con cui ci siamo sempre consultati lavorando a tempo pieno praticamente Fabio conditi ha diciamo convinto alcuni del momento 5 stelle a presentare dei disegni di legge un'iniziativa proprio individuale venendo però da quest'idea che avevamo discusso con Marco per anni ed è venuto fuori qualcosa adesso che è in discussione in Parlamento e il super bonus che ormai conoscono tutti e qui non sto a insistere però voglio dire Draghi adesso ne ha approfittato perché grazie al super bonus ha avuto un bel aumento di PIL e lui ha semplicemente diciamo avvallato quello che già Conte aveva messo in opera col super bonus ecco e poi altri partiti hanno presentato disegni di legge di fratelli d'Italia con il senatore De Bertoldis persino uno della Lega e quindi diciamo ci sono almeno tre partiti su quattro che hanno in qualche modo proposto anche loro o hanno concordato che dei crediti fiscali scambiabili che sarebbe l'idea della moneta fiscale è qualcosa che può servire all'economia italiana non stiamo parlando dei loro dei leader non stiamo parlando della Meloni di Salvini per ora e neanche di Conte o di Maio però all'interno dei tre partiti c'è qualcuno che capisce le cose che abbiamo predicato e quindi c'è stato un successo parziale con il super bonus e il problema è che è difficile estenderlo a tutta l'economia incontri delle forti resistenze e lo stesso concetto del super bonus potrebbe essere usato per il software dire alle imprese tu fai degli investimenti nel software io ti do stato dei crediti fiscali che tu però puoi scambiare portarli in banca scambiarli come se scambiavano i crediti super bonus quindi potresti allargare quest'idea ma non è l'argomento di stasera andiamo pure avanti il problema è che ad esempio la Banca d'Italia ha già dimostrato di non essere molto a favore e siccome si tratta di qualcosa in cui contano le regole contabili e possono cambiare le regole contabili purtroppo se vogliono i tecnici del ministero l'eurostat eccetera tu hai sempre oltre al fatto che devi convincere il resto dei partiti hai anche il problema che possono semplicemente cambiarti le regole contabili classificarteli come debito pubblico e farteli rientrare nell'aumento del debito pubblico allora è questa l'unica cosa che si può fare in realtà si può provare invece a parlare della proposta di Cochran di togliere i BTP e finanziarsi dall'interno in Italia con i soldi che gli italiani hanno in banca per poter ridurre le tasse fare la spesa pubblica per la sanità infrastrutture un 8% di deficit ovviamente questo è l'obiettivo allora io ho letto quello che aveva scritto Cochran ho provato a scriverlo sul mio sito altrove sono riuscito a pubblicare qualcosa anche su Milano Finanza persino una volta su Sole 24 Ore su Libero eccetera ma ovviamente è buttare un sasso così nello stagno per ora però diciamo che abbiamo cominciato e andiamo avanti quindi abbiamo cominciato a parlare di questa soluzione ed è una soluzione importante c'è dietro un libro di 100 pagine con molta matematica da parte di uno dei top economisti al mondo quindi non stiamo parlando di un'idea che è venuta a me o a qualche mio amico o qualche blogger stiamo parlando del top di quella che sarebbe anche l'economia monetaria è un personaggio indipendente che ha pensato a una soluzione radicale per quando l'America avrà dei problemi lei di debito pubblico e quindi noi che siamo più deboli dell'America tanto di più per noi potrebbe essere utile e in sostanza lo Stato emette del debito che è perpetuo che non scade mai a differenza dei BTP e dei BOT e dei CCT e con un valore che garantisce sempre alla pari perché il tesoro si impegna a ricomprartelo sempre alla pari quindi se il cittadino mette dei soldi in questo debito che non scade mai può ritirarli e lo Stato gli dice io hai messo 100 io ti ridò 100 il valore nominale te lo garantisco in più però e questo è l'aspetto rivoluzionario lo Stato dice beh grazie alla tecnologia di cui accennavo prima tu puoi usarlo come un conto corrente come se fossero soldi in banca quindi togli i soldi dalla banca mettili qua anche quelli che tieni proprio nel conto corrente e non hai bisogno di pensare oh Dio adesso scadono fra 5 anni fra 3 anni fra 10 anni e poi ci sono le oscillazioni le oscillazioni te le elimino io te lo ricomprano a pari quindi non hai il rischio che hai sui BTP dove gli italiani sono stati buttati fuori dai BTP perché tutti gli hanno detto i giornali i promotori le banche attenzione i BTP sono rischiosi c'è la spread non comprarli compra un fondo che contiene tutti i bond del mondo e degli altri paesi non quelli italiani sono stati scoraggiati perché c'erano le oscillazioni tu elimini questo problema che è poi quello della spread la spread sono sostanzialmente le oscillazioni del prezzo dei titoli di Stato a 10 anni 5 anni BTP uno due gli dici guarda aggarazzi la tecnologia tu puoi usarlo come un conto corrente non c'è bisogno che da una parte tieni 10.000 nel conto corrente e 40.000 o 100.000 in fondi o appunto titoli di Stato in un'unica soluzione tu ottieni un rendimento e puoi usarlo per il bonifico per la carta di credito per il banco ma te per i prelievi in contanti è consentito dalla tecnologia e gli ultimi sviluppi per cui i tassi di interesse oggi sono tutti zero nel mondo e le banche centrali hanno creato questa liquidità e mantengono i tassi a zero e quindi uno Stato che ti offre un rendimento pari a quello del BTP garantendo che non ci sono oscillazioni e che puoi usarlo come conto corrente ti offre qualcosa che per molta gente può essere attraente e quindi puoi spostare centinaia di miliardi dai conti correnti o anche dai fondi comuni e altre forme di risparmio gestito che oggi non rendono niente a finanziare il debito pubblico quindi esatto io ho provato a scrivere questi sono esempi un articolo sul Sole un articolo sul Libro io ho provato a scrivere di questa cosa ma è un'idea abbastanza rivoluzionaria e radicale quindi persino in America Cochran pur essendo un personaggio molto importante è stato circondato dal silenzio perché è un'idea che non conviene diciamo a Wall Street e al mercato finanziario e andiamo avanti ecco esatto questo è Cochran e questo è un video che ho fatto con Bio Blue con Messora e con il nostro amico Conditi che ha agganciato alcuni del Movimento 5 Stelle in cui abbiamo provato a parlare di questa soluzione ma vedrete che se arriviamo alla fine il momento giusto può arrivare adesso ecco e ho anche scritto a Cochran e ho detto ma abbiamo ho letto e ho riassunto la sua tesi penso che possa essere applicabile all'Italia lei cosa ne pensa lui che legge l'italiano ha letto sul mio sito cobrefe.com l'articolo che avevo fatto più lungo e mi ha detto che non credevo che leggesse l'italiano e mi ha detto che era corretto e poi abbiamo provato a scambiare qualche email e insomma diciamo che siccome ripeto lui ha scritto qualcosa tipo 150 pagine su questa cosa e c'è anche parecchia teoria matematica e io onestamente ci vuole un po' di tempo un po' di fatica per capire perché stiamo parlando di cambiare il modo con cui funziona in pratica il debito pubblico che è il cuore del sistema finanziario quindi ci sono molte implicazioni economiche di teoria ho provato a capirlo ho provato a scriverli e diciamo che nel mio piccolo penso di avere anche la conferma di avere compreso il concetto e lui stesso però sa che è una cosa un po' rivoluzionaria e quindi per adesso in America non gli danno retta qui ho messo a destra una delle slide di Cochran giusto perché per far vedere da dove abbiamo preso le idee per cercare di sintetizzare l'idea quindi lo Stato si finanzia in questo modo a un costo più basso e con più facilità senza temere continuamente che ci sia l'asta la famosa asta dei BTP che va male e dopo la spread si alza che è la questione con cui per vent'anni hanno inchiodato l'Italia all'austerità perché non era mai veramente che l'Unione Europea aveva il modo di punire l'Italia questo non è vero legalmente non possono fare niente l'Italia può fare un deficit del 5% cosa ti fanno? è tramite il mercato finanziario che hanno sempre inchiodato l'Italia perché i BTP andavano a picco il loro rendimento quando poi arrivava subito dopo l'asta in cui continuamente lo Stato italiano si rifinanzia e ovviamente doveva pagare di più perché il mercato quando il BTP da 120 va a 80 ti chiede alla prossima asta un rendimento più alto eccetera eccetera questo è il famoso meccanismo della spread e noi vogliamo eliminarlo e in più noi trasformiamo il debito pubblico in moneta se vogliamo e non è un'esagerazione o uno slogan perché tu hai un pacco di titoli di Stato che sono un investimento in cui ricevi un tasso di interesse e li usi come se fossero il tuo conto corrente quindi tu rendi liquido rendi moneta rendi denaro che circola anche il debito pubblico e ovviamente lo Stato non userà tutti i soldi perché deve tenere una parte nel caso da un 10 un 20% all'inizio di più poi di meno come fanno poi anche le banche a disposizione di chi faccia un bonifico all'estero oppure chi paghi a qualcuno che non ha il conto presso il tesoro se tutti gli italiani aprono un conto presso il tesoro il problema scomparre diventa come sistema bancario se una parte tengono ancora tutti i soldi in banca e solo una parte li porta presso il tesoro allora tu devi tenere logicamente come tesoro una frazione più alta di questi soldi mettiamo che arrivino mille miliardi ne tieni 100 150 miliardi da parte perché ci sarà chi fa il bonifico a qualcuno che ha il conto a banca intesa ma non ha il conto presso il tesoro e quindi in quel caso sono soldi che escono da questo sistema però è un problema che tutte le banche da secoli hanno sempre gestito quindi lo Stato in pratica si comporta come una banca quindi il nostro obiettivo nel proporre questo e speriamo di poterlo proporre ai politici è di dire voi vi lamentate spesso lo fanno anche i politici specialmente della Lega o di fratelli d'Italia di dire gli italiani non sono poveri hanno dei risparmi in percentuale più alti anche di molti di quelli di altri paesi quindi c'è molti sono 4.300 miliardi o anche forse adesso 4.500 i soldi proprio liquidi investiti o in conti correnti e sono una cifra quindi che è quasi due volte e mezzo il debito pubblico e rispetto ai titoli di Stato tre volte i titoli di Stato quindi perché gli italiani devono continuare a mandare all'estero i loro soldi perché quando comprano una polizza un fondo comune una gestione patrimoniale o altre forme di risparmio gestiti i soldi vengono mandati all'estero dato che i mercati finanziari esteri sono il 99,5% l'Italia lo 0,5% tu compri un fondo comune i soldi rimandi all'estero perché continuiamo noi italiani che abbiamo un grosso risparmio a finanziare le aziende e gli stati esteri finanziamo il nostro anche perché ormai i rendimenti che tu ottieni all'estero sugli obbligazionari sono 0 o sotto 0 il BTP si è comportato molto bene come ho fatto vedere ha sempre reso molto contrariamente all'allarmismo che hanno sempre fatto al Sole 24 Ore Corriere della Sera e nei talk show quindi ha sempre reso molto continua a rendere di più degli altri perché anche adesso l'Italia è l'unica che ti rende l'1% gli altri ti rendono 0 o peggio e quindi questo è il momento giusto per dire agli italiani hai tutti questi soldi li continui a mandarli all'estero tramite questi fondi e prodotti di risparmio gestito tienli in Italia lo Stato ti garantisce sia dalle oscillazioni ti dà un rendimento e ti dà una funzione di conto corrente come una banca più bello di così ecco allora qualcuno del Movimento 5 Stelle che poi in pratica è soltanto uno il senatore turco è stato convinto non da me ma da questo mio amico a cui ho spiegato l'idea e ha cominciato a parlarne non ha avuto molto spazio qualche articolo da qualche parte e purtroppo è parte del governo Draghi e quindi non penso che andrà in nessuna parte però questo è solo per dire che non è un'idea che mi sono sognato innanzitutto viene da un economista che forse è il più importante in questo campo al mondo secondo qualcuno l'ha capita è già il turco credo che sia il vice di Conte poi Conte probabilmente non l'ha capita e lasciamo perdere Di Maio eccetera però questo solo per dire che l'idea è apparsa su Milano Finanza diverse volte Italia Oggi eccetera grazie a Turco a cui l'abbiamo spiegata l'ha spiegata Fabio Conditi per essere precisi ma all'inizio ero io che diciamo ho fatto vedere questa teoria questa proposta questa soluzione di Cochrane ecco e questi sono altri esempi del fatto che appunto c'è un piccolo gruppo così come sui conti diciamo fiscali e i crediti fiscali e ormai ci sono in tre partiti dei senatori e deputati che sono interessati hanno fatto delle proposte di legge anche su questa proposta comincia a esserci qualcuno non sono i leader non sono i più importanti ma ci sono degli esempi se vai su internet e guardi i giornali trovi degli articoli non solo i miei ma anche di altri ecco allora qui finiamo di spiegare bene che è una cosa molto grossa per questo che io non ero d'accordo con Francesco all'inizio che lo presentava come un servizio che lo Stato offre no questa è l'idea di il ventunesimo secolo che è diverso dal ventesimo secolo è un'economia come ho fatto vedere all'inizio dove tutto è annegato nel debito c'è una alluvione di debito nessuno sa bene come andrà a finire le banche centrali stesse stanno probabilmente alla notte pensando come andrà a finire perché loro continuano a pompare denaro sempre più debito tasse di interesse a zero e in più però la tecnologia che ha fatto dei progressi allora devi trovare una soluzione per il ventunesimo secolo cosa fai con questo debito non lo puoi ripagare devi rifinanziarlo la soluzione logica è trasformare il debito in moneta cioè stiamo parlando di andare alla base alla radice alle fondamenta del sistema finanziario monetario e il motivo però ripeto sono le prime slide che ho fatto vedere dove il debito è esploso di tre volte quattro volte in cina in america in australia in tutto il mondo quello delle aziende quello delle imprese quello delle famiglie e le banche centrali sono costrette a rincorrere gli stati fanno sempre più deficit con i pretesti vari del covid omicron eccetera e le banche centrali pompano liquidità la creano dal niente fanno in modo che ci siano i soldi per rifinanziare questo debito e c'è questa corsa continua al debito e poi i tassi di interesse a zero che è un fenomeno che non è mai successo nella storia e quindi tu devi pensare e questo Cochrane secondo me ha effettivamente colto l'essenza del problema devi pensare a una soluzione perché non è più come vent'anni fa quando Mosler ha iniziato c'era Clinton che faceva dei surplus di bilancio surplus di bilancio e si parlava del fatto che il debito pubblico in america a fine anni 90 potesse sparire perché c'era l'austerità dappertutto tutti facevano surplus di bilancio anche l'america e quindi arrivò Mosler e spiegò che questo era completamente assurdo perché in realtà i soldi non sono degli oggetti materiali fisici ma sono semplicemente delle entrate contabili e se lo Stato ha bisogno eccetera eccetera questo discorso sul deficit ormai ha stravinto l'america ha fatto 3 mila miliardi di deficit e 22% 22% di deficit sul PIL 22% del PIL noi facciamo il 2% 2,2% l'america il 22% parliamo di cose che forse la gente sentendo sempre parlare di covid non realizza quindi tu hai una completa vittoria dell'MMT e dell'idea che il deficit e il debito pubblico in realtà possono sono elastici li puoi aumentare se c'è bisogno e con il pretesto del lockdown l'elastico l'han tirato al massimo adesso sei in una fase successiva in cui devi dire tutto questo debito cosa ne facciamo e l'idea di Cochrane è di dire trasformiamolo in denaro in moneta che la gente può usare lo lasciamo lì lo rifinanziamo e la gente smette di pensare che è debito e dice va bene sono soldi sono soldi presso lo Stato li uso per fare pagamenti ok quindi noi puntiamo a spiegare io almeno spero di convincere altra gente però insomma quelli che finora diciamo sono sono entrati in questa discussione e hanno trovato che era un'idea utile dovrebbero cercare di spiegare ai politici e a chiunque altro che se gli italiani spostano una parte ai 4400 4500 miliardi che hanno fermi in banca di cui i 2000 nei conti correnti costano e non danno niente gli altri ormai rendono zero a parte chi giochi in borsa tutte le obbligazioni rendono zero o fanno perdere soldi quindi gli italiani hanno l'incentivo a togliere una parte di questi soldi visto che non gli rendono niente e gli costano solo e tu gli devi offrire qualcosa perché è proprio il momento giusto che li convinca a spostarli a finanziare il debito pubblico vendegli direttamente i BTP come ogni tanto hanno fatto anche negli ultimi tre anni facevano l'emissione di BTP per i cittadini italiani con un piccolo incentivo e il risultato era che vendevano 5 miliardi 6 miliardi 7 miliardi di BTP e non cambiava assolutamente niente perché tu ne devi rifinanziare 500 miliardi l'anno allora la BCE può darsi che li continui a comprare per altri 50 anni ma può anche darsi che smetta l'anno prossimo se aumenta l'inflazione se hanno delle altre priorità tu devi allora logicamente pensare che come fanno i giapponesi puoi finanziare dall'interno il deficit e rifinanziare il debito pubblico e quindi se tu offri a chi ha soldi nelle polizze nei fondi comuni o anche semplicemente nei conti correnti un'alternativa attraente sia come rendimento sia come sicurezza perché poi lo Stato è più sicuro di una banca giusto tra avere i soldi alla carica e avere di prassi il tesoro forse è più sicuro il tesoro e gli dai un rendimento che i titoli di Stato di altri paesi a parte quelli americani non hanno ma quando ce l'hanno poi c'è il rischio di cambio e in più gli dai anche la funzione di essere un conto corrente con Bancomat carta di credito e tutto il resto di quello che si utilizza per i pagamenti quindi diciamo che il 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 sunto è che se la banca centrale in America comincia ad alzare i tassi e poi dopo un po' l'Inghilterra ha già cominciato due giorni fa tra parentesi altri paesi hanno già cominciato in giro per il mondo il Canada eccetera e a un certo punto anche la lagarde la BCE specialmente se l'inflazione continua a salire in Germania nei paesi nordici in Germania già è vicino al 4,5 eccetera sono costretti ad alzare i tassi per poter alzare i tassi devono smettere di fare i quantiativi a quel punto a quel punto hai di nuovo una crisi sui titoli di Stato e se loro riducono smettono di comprarli e quindi tu hai dal punto di vista del governo italiano che devi proteggerti non puoi ancora finire con il ricatto della spread come è successo negli ultimi 20 anni dall'altra hai le famiglie che possono invece finalmente avere qualcosa di meglio di quello che offrono le banche tu unisci le due cose e hai una soluzione per il problema del debito pubblico e del deficit e ricordo solo questo è un dato che non ho aggiornato perché purtroppo non mi pagano a fare queste cose però è rappresentativo perché poi di un anno e mezzo fa quindi ricordatevi che il debito pubblico cioè sostanzialmente i titoli di Stato oltre alle assicurazioni ce l'hanno i fondi di investimento che sono fondi di investimento che ce ne hanno un po' ma hanno anche il debito di tutti gli altri paesi del mondo quindi la quota in un fondo di investimento è un 5% un 3% per l'Italia sono fondi sostanzialmente internazionali e ogni tanto ne comprono ogni tanto ne vendono le assicurazioni sono più stabili poi ci sono ovviamente la banca d'Italia e poi ci sono le banche italiane che sono piene di titoli di Stato e cominciano pian piano adesso a ridurli perché adesso non si guadagna più prima ho fatto vedere all'inizio quando i BTP da 60 70 80 poi 100 poi 140 poi 160 hanno fatto guadagnare barche di soldi alle banche italiane che con i soldi della BCE ne hanno comprati per quasi 500 miliardi questa base è finita perché i tassi non possono sempre scendere e nel mondo sono a zero e cominciano a salire le banche italiane possono vendere questi titoli idem per le banche estere le banche estere pesano meno di anni fa perché c'era la BCE la banca d'Italia però sono sempre le banche estere le banche italiane che possono vendere e la BCE che può essere costretta dal fatto che l'America ad esempio vada in un'altra direzione loro devono seguire l'America in qualche modo oppure semplicemente l'inflazione oppure cambia qualcosa nella politica la BCE non è qualcuno di cui puoi contare in Italia quindi tu devi aumentare la quota delle famiglie che adesso è niente 100 miliardi su 2000 erotti di titoli noi vogliamo aumentare quella fetta lì azzurra delle famiglie ma con una soluzione diversa nuova basata sulla tecnologia anche e vabbè questo di nuovo è per dire che insomma di nuovo non è proprio aggiornata ad adesso però insomma i fondi hanno 2300 miliardi e esattamente tanti soldi sono nel debito pubblico italiano sono un po' aumentati ovviamente 2650 però voglio dire tutti questi soldi che gli italiani hanno in fondi sono in gran parte fondi obbligazionari la parte azionaria è minima e sono fondi obbligazionari che stanno perdendo soldi quindi gli italiani hanno 2300 circa adesso ne hanno di più tra l'altro secondo me sono ormai 2450 ed è praticamente la stessa quantità di denaro che è nei titoli di Stato e gli italiani stanno perdendo soldi perché in tutto il mondo quando i tassi da zero cominciano a salire il prezzo scende quindi non solo i soldi nei conti correnti che adesso ormai sono 1950 quasi 2000 ma anche i soldi nei fondi e altri prodotti di risparmio gestito una parte può essere spostata e gli italiani come tutti sanno hanno una parte di insomma una percentuale scusate di ricchezza finanziaria rispetto al reddito che il nostro reddito purtroppo è fermo o cala da 20 anni però anche se il reddito cala siccome noi avevamo una ricchezza finanziaria più alta in meglio degli altri paesi continuiamo ad avere una ricchezza finanziaria superiore alla media o nella media diciamo nonostante i reddito cali quindi è un peccato che questi soldi vengono spediti all'estero a finanziare tutto il resto del mondo e non in Italia anche perché appunto non c'è una grande convenienza a comprare titoli di tutto il mondo oggi come oggi ecco qua allora c'è un disegno di legge finora su questa proposta questo lo faccio non per dire che ho fiducia in queste persone perché purtroppo fanno parte del governo Draghi e non penso che andranno da nessuna parte mi spiace dirlo perché sono benintenzionate e ci ha lavorato questo mio amico però sono parte del governo Draghi lo stesso è utile far vedere quando parli di questa idea che non è campata per aria non solo perché proviene da un economista importante ma perché c'è anche chi ha cominciato a prenderla sul serio a scriverci un disegno di legge e l'idea diciamo è esattamente questa che io ho tradotto e provata a divulgare che è arrivata anche a a questa senatrice del Movimento 5 Stelle e niente andiamo avanti perché questo è solo per far vedere che di nuovo come la moneta fiscale dopo qualche anno è entrata poi in in parecchi disegni di legge e anche col super bonus è diventata qualcosa di reale potremmo avere successo anche su questa idea se si riesce a trovare però della della gente nelle forze politiche che la capisce ecco e allora il governo Draghi qui non mi dilungo perché ovviamente qui stiamo parlando già di una cosa più soggettiva ognuno può pensare quello che vuole del governo della politica per carità a me interessa relativamente però realisticamente tutto quello che ha fatto Draghi negli ultimi 30 anni ti dice che lui non andrà a rivoluzionare a mettersi contro una grossa parte del mercato finanziario che ha sempre munto i titoli di Stato il debito pubblico italiano sia speculandoci facendo il trading sia incassando cedole per 30 anni e non hanno nessun motivo di farsi sostituire da un meccanismo in cui le famiglie danno i soldi al tesoro e tagliano fuori il mercato finanziario tagliano fuori Morgan Stanley tagliano fuori Goldman Sachs tagliano fuori le banche esteri i fondi esteri che rimangono all'asciutto e smettono di mungere l'Italia quindi onestamente tutto quello che ha fatto una persona che ormai ha più di 70 anni come Draghi ti dice che lui non andrà contro gli interessi della gente con cui ha lavorato e per cui ha lavorato ed è una cosa una considerazione realistica non sto facendo una polemica o tirando fuori degli slogan dico che lo stesso Cochrane in America ha fatto fatica a farsi diciamo notare con questa proposta e tutti gli hanno detto e ci sono le discussioni se volete è una proposta che non piace a Wall Street non piace al mondo finanziario figurarsi quindi quando hai come Presidente del Consiglio qualcuno che è proprio l'espressione delle sì delle banche centrali e del sistema bancario voglio dire Mario Draghi ha inventato il famoso whatever it takes il quantitative easing ad oltranza a Londra il giorno che stava a una conferenza di fondi edge e questi gli stavano dicendo che l'Italia sarebbe andata forse in default o cose di questo genere e lui per tenerli buoni questi fondi edge non si capisce neanche perché poi un funzionario pubblico come il Presidente della BCE vada a parlare sempre con questi fondi edge ha tirato fuori questa battuta faremo qualunque cosa poi è riuscito a convincere il resto e hanno pompato 3.000 miliardi per tenere assieme l'euro però ricordiamoci che l'ha fatto perché c'erano i fondi edge che stavano speculando nel 2012 contro i BTP e lui scusate 2011 e lui doveva tenerli buoni e questo è il mondo in cui lui vive dove è quello che contano sono Morgan Stanley sono Pimco sono BlackRock e devi sempre pensare a telefonare a loro parli con loro e l'input viene da loro e se sono loro che dettano la politica finanziaria e fiscale italiana quindi i deficit che l'Italia può fare noi siamo nelle mani di BlackRock di Pimco di Allianz di Citadel di questa gente che ovviamente non ha interesse alle famiglie italiane ai lavoratori italiani agli ospedali italiani alle infrastrutture italiane alle piccole imprese italiane e noi siamo nelle mani di questa gente tramite il meccanismo della spread e tramite il meccanismo della vendita di BTP per finanziarci quindi se noi lo eliminiamo noi ci liberiamo finalmente da questo ricatto anche senza uscire dall'euro e quindi per finire chi può fare queste cose l'opposizione qualcuno che non sia dentro alla logica delle banche e delle banche centrali del mercato finanziario dei fondi edge come ho provato a dire adesso e non 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 spetta a me diciamo perché non ho esperienza particolare di politica di sapere come fare esattamente io ho cercato di riassumere al meglio quello che si può mettere assieme su questa idea e e poi spero che come quella della moneta fiscale no è andata avanti in parte anche questa possa andare avanti perché ripeto è qualcosa che non è una soluzione tecnica parliamo di qualcosa che potenzialmente trasforma il debito che è il problema grosso dell'economia mondiale non solo dell'Italia in denaro che viene usato quindi nel caso in particolare poi dell'Italia noi possiamo finalmente rilassarci e dire abbiamo bisogno di un deficit dell'8% lo facciamo e il meccanismo per cui le famiglie portano soldi verso il tesoro il tesoro li usa per il deficit e a sua volta stimola l'economia che stimola il reddito e quindi migliora anche la situazione delle famiglie e queste a loro volta prendono fiducia e mantengono diciamo questo tipo di finanziamento che è sparito perché negli ultimi vent'anni le famiglie hanno smesso di finanziare il nostro debito italiano noi mettiamo in moto un meccanismo autonomo indipendente dell'Italia con cui speriamo di liberarci finalmente del ricatto di queste diciamo banche fondi e potenze finanziarie che finora ci hanno tenuto per di qua quindi noi vogliamo trasformare il debito pubblico italiano in denaro come il conto corrente della banca e accontentiamo le famiglie che possono avere dei vantaggi e accontentiamo anche un governo diverso da questo che voglia fare dei deficit dell'8% come dice Mosler e quindi dovremmo risolvere molti problemi con quest'idea cosa vogliamo fare Marco vuoi cominciare tu comincio io come preferisci per me è differente se vuoi inizio io dai ok ma dunque allora la proposta secondo me va un attimino qualificata in alcuni aspetti nel senso che io personalmente non la vedo una cosa in contraddizione o incoerente con la proposta della moneta fiscale in realtà se lo c'è di aspetti possiamo perfino considerare che ne sia un'applicazione e qui parto un po' dall'origine quando io personalmente ho elaborato la prima proposta di moneta fiscale almeno la prima ricercolata in Italia su vari media eccetera eccetera poi anche nel video che ho scritto con Giovanni eccetera eccetera i crediti CCF quindi certificati di credo fiscale certificati di compensazione fiscale l'ho concepita perché mi è venuto più istintivo così impostarla come un titolo un titolo equivalente a un BTP a due anni salvo il fatto che il BTP ti dà diritto un rimborso in euro il CCF non ti dà diritto un rimborso ti dà diritto a essere utilizzato per pagare le tasse dopodiché l'avevamo anche accennato all'inizio ma è rimasto in nuce poi è stato ulteriormente sviluppato anche appunto con i contributi di Fabio Conditi che come spiegava Giovanni ha coinvolto diverse persone nel Movimento 5 Stelle eccetera dicendo ma si può costruire in effetti una piattaforma integrata di scambio dove invece o una giunta perché non è che le cose sede necessariamente si escludono di avere titoli che girano sulle piattaforme su cui oggi si scambiano i BTP e i BOT eccetera eccetera creiamo dei conti correnti presso il tesoro quindi se vogliamo in nuce eravamo arrivati anche noi in maniera un po' indiretta a questa idea della moneta elettronica del tesoro dove vorrei precisare alcune cose però è riguardo a punti che adesso vado un attimino a enucleare dunque intanto la tematica di come reagisce l'Unione Europea come reagisce la BCE Eurostat eccetera è vero che loro guardano con diffidenza diciamo così il concetto della moneta fiscale del CCF e argomentano che dovrebbe essere ripensificato come debito su questo non ho torto marcio perché se uno va leggere i regolamenti è chiarissimo che un'attività finanziaria che non è soggetta a obbligo di rimborso in euro non è debito andrà a determinare minori entrate future da un lato ma ce ne saranno anche di più perché tu intanto l'hai messo nell'economia hai riveterizzato fatto ripartire quindi creato PIL creato gettito si andrà poi a consultivare nel momento in cui i titoli di sconto fiscali i certificati di compensazione fiscale effettivamente vengono usati qual è l'impatto netto ma al momento dell'emissione questo non è debito non ci sono dubbi anche se loro cercano di argomentare il contrario dicendo che bisogna tener conto del fatto che normalmente un credito fiscale potrebbe chi ne beneficia non riuscire a utilizzarlo se se lo scambia invece la probabilità di utilizzo aumenta ma sono cose che si sono assolutamente inventati pretestuosamente che non c'entrano nulla se stiamo a quello che dicono i regolamenti la moneta fiscale non è debito la moneta elettronica del tesoro le precedenti che faccio sono due primo non mi è chiaro sinceramente in questa proposta se questa moneta elettronica darebbe diritto su richiesta di chi detiene il conto presso il tesoro a essere rimborsata in euro oppure no perché se dà diritto al rimborso in euro quello è debito non ci sono dubbi cioè mentre nel caso della moneta fiscale pura come l'avevo concepita all'inizio i regolamenti dicono che non è debito e poi bisogna litigare con Eurostat nel caso della moneta elettronica del tesoro se può essere prelevata cioè se io titolare del conto presso il tesoro posso chiedere euro euro di quelli emessi da BCE euro che posso spendere in Germania in Francia e in altri paesi se è così non ci sono dubbi e debito e allora a questo punto la UE mi direbbe immediatamente sì vabbè ma tu nel calcolo di deficit debito eccetera eccetera che lo direbbero anche i mercati devi tener conto del fatto che hai creato nuovo indebitamento io quindi se non lo utilizzo fiscale utilizzabilità fiscale vedo con favore questa innovazione però a essere sinceri non la considero proprio così rivoluzionaria perché la vedo come una via un canale alternativo per collocare debito pubblico che è meglio che collocare BTP perché è meno volatile perché non può essere utilizzato per fare trading perché non dà luogo il fenomeno lo spread che sono tutte le cose a cui pensava Cochrane che tra l'altro Cochrane il problema se la moneta elettronica del tesoro americano sia uno dollaro o non sia uno dollaro non se lo pone proprio perché in teoria una passività del tesoro americano non è moneta perché la moneta la emette la Federal Reserve anche lì ma che la Federal Reserve permetta al governo federale americano di andare in default è un'ipotesi che nessuno prende minima considerazione purtroppo invece nell'ambito la loro zona la BCE che lascia andare in default uno Stato o le banche di uno Stato è qualcosa che è già successo nel caso della Grecia nel caso delle banche a Cipro eccetera per cui se noi emettiamo moneta elettronica del tesoro e diciamo al titolare lo Stato italiano si impegna a rimborsartela intanto dobbiamo sperare se ne può avere fiducia però andrà visto l'atto pratico che questa moneta venga liberamente accettata scambiata tra la popolazione con fiducia eccetera e poi abbiamo sempre la possibilità che a un certo punto la garde per esempio esca a dire ma gli italiani hanno messo sta roba qui non abbiamo capito cos'è essere sinceri siamo un po' scettici tenete conto che noi BCE con questa roba però non c'entriamo niente cioè basta una frase di questo genere e il rischio che si scateni l'equivalente di una corsa agli sportelli o qualcosa del genere c'è una variante sul tema rispetto alla crisi e allo spread non può essere esclusa appunto perché ricordiamoci Cochrane pensa agli Stati Uniti dove il rischio di insolvenza del governo federale è un rischio una probabilità su un miliardo di miliardi di miliardi noi siamo nell'eurozona dove il rischio di insolvenza di uno Stato ai noi è una possibilità concreta altro discorso invece e poi è quello a cui siamo arrivati anche noi del gruppo della moeda fiscale elaborando un attimino le successive proposte è quello in cui diciamo la piattaforma di scambio va benissimo anche noi pensiamo che ci debba essere anzi che debba essere il più possibile estesa magari anche promuovendo stimolando accordi con aziende della grande distribuzione pubbli utis eccetera eccetera quindi promuovendo il concetto che possa essere utilizzato per scambiarsi direttamente per saldare compravendite di beni e di servizi ma la moneta elettronica del tesoro chiamiamola così noi l'abbiamo sempre vista come un qualcosa che non dà diritto al rimborso in euro come nel caso di CCF ed ha però invece diritto a essere utilizzabile per pagare le tasse del resto sarebbe anche abbastanza un paradosso se il tesoro emettesse questa sua passività con questa sua moneta e poi a chi si presenta dicendo beh io devo pagare 10 mila euro di IVA ecco qua il mio conto attivo prelevolo a questo sarebbe assurdo che il MEF dicesse ah no ma io questo non lo prendo voglio gli euro cioè se non lo prende lo Stato chi mai lo prenderà cioè sarebbe una contraddizione in termini io quindi sono positivo favorevole assolutamente su questa iniziativa mi pare che debba essere costruita sull'idea che lo Stato al rimborso in euro non si impegna si impegna invece all'accettazione fiscale in questa maniera però ricadiamo nell'alveo della moneta fiscale quindi in qualcosa che potremmo correttamente infatti c'è una slide che da qualche di quelle che abbiamo stato forse Francesco all'inizio li denominava conti correnti fiscali perché di questo si tratterebbe e una volta che tu hai questo strumento effettivamente puoi immettere potere d'acquisto dell'economia ricordiamoci che poi alla fine quello che ci interessa è prevalentemente questo nel senso che se invece creiamo una cosa dove i BTP vengono convertiti in moneta del tesoro però non siamo in grado di fare più deficit cioè di immettere più potere d'acquisto dell'economia non abbiamo risolto un granché anzi sinceramente non abbiamo ancora risolto nulla noi abbiamo bisogno di avere una leva che ci permette di mettere potere d'acquisto in mano alle aziende e alle famiglie per cui dobbiamo sostanzialmente superare le disfunzioni dell'eurosistema e i vincoli che hanno di fatto strangolato l'economia italiana in pratica da quando c'è l'euro ma particolarmente dal 2011 in poi dalla crisi allo spread in poi dal giro di vite sull'austerità l'introduzione del fiscal comp al governi monti governi letta eccetera eccetera fate questa precisazione è chiaro che la piattaforma di scambio di moneta elettronica del tesoro la vedo assolutamente come un fatto positivo Cochrane va elaborata pensando a un'altra situazione però si sposa appunto con un'evoluzione del pensiero che come proponenti della moneta fiscale eravamo anche noi arrivati ad avere e la vedo sostanzialmente come uno strumento per rendere il concetto di strumento monetario interno a utilizzo fiscale quindi di moneta fiscale molto più funzionale molto più valido molto più interessante indubbiamente anche per disimpegnarci come Stato italiano sempre di più dal collocamento di BTP sul fatto che poi il governo attuale Draghi l'accetti vabbè qui vediamo nel senso che è chiaro che Draghi non nasce con l'orientamento a promuovere questi strumenti e anche però una cosa che va segnalata quella che c'è un'azione di boicottaggio chiamiamola così o quantomeno non tanto lui che su questo come dire non si esprime non entra nel merito ma il ministro dell'economia Franco sta cercando di buttare sabbia negli ingranaggi di strumenti come il bonus 110 i 3 di rimposta per l'industria 4.0 con la scusa che ci sono alcune frodi quindi servono dei controlli preventivi quindi inserisce lungaggini inserisce complicazioni burocratiche non non dà sicurezze su quanto dureranno le estensioni le proroghe se la liquida rimarrà al 110% o cambierà però c'è anche una pressione fortissima da parte delle categorie produttive questo è un elemento molto importante perché quando si è vista la valenza di questi strumenti con buona pace di chi quando ne parlavamo all'inizio diceva ma chi vuole che prenda mai questa carta igienica questa carta straccia quando invece si è visto sul mercato che esistevano questi crediti si è creato un interesse enorme anche da parte delle banche che stanno facendo fior di soldi e fior di business e di attività nell'intermediare scontare eccetera eccetera che dimostra che l'idea funziona un'idea valenza e questo mette anche in difficoltà chi nel governo vorrebbe in qualche maniera stopparla boicottarla limitarla perché poi ci sono i costruttori i ristrutturatori i beneficiari dei crediti di imposta per gli investimenti in digitale in robotica 4.0 eccetera eccetera che questa cosa ne hanno preso atto quindi cominciano a fare pressione una pressione forte e questo è importante perché poi alla fine per superare queste resistenze ci vuole la pressione dell'opinione pubblica ma la pressione dell'opinione pubblica finché si parla di un qualcosa che parliamoci chiaro il 99-9% della popolazione non ha il tempo di farsi un'opinione sugli argomenti di cui si sta parlando quando ci sono dei soggetti che dicono ah ma sta roba mi arriva in tasca e vale dice no ma io la voglio dice non ho capito perché il governo non la vuole estendere quando si è visto che funziona quando si è visto che rilascia i settori produttivi quindi si crea un'azione che spinge e riesce a ottenere i risultati il ministro Franco avrebbe tanto voluto questi bonus probabilmente azzerarli e la verità è che non ci sta riuscendo è costretto a estenderli costretto a prorogarli e sono cose che avremo ancora l'anno prossimo speriamo ancora negli anni successivi quindi è una battaglia difficile però è una battaglia su cui abbiamo delle armi e si sono raggiunti i risultati ma sarei tranquillamente adesso anche per non parlare troppo io la parola a Marcello sì ecco attivato il mio microfono Francesco tu sei ancora connesso ti abbiamo praticamente escluso tu devi fare da moderatore però praticamente ci siamo abbiamo sempre il suo fermo immagine esatto va bene direi che siamo in autogestione siamo in autogestione direi che cerco anch'io di essere cerco di essere breve anche perché condivido in gran parte le osservazioni di Marco allora io avrei diciamo la prendo un po' più alla lontana ma in realtà c'entra questo discorso vorrei risalire un pochino ad alcune parti della parte diciamo più di analisi del problema italiano rispetto agli altri paesi che ha fatto Giovanni Zibordi nella sua presentazione in particolare ha sottolineato come in Italia si le banche abbiano pompato testuali parole poco credito rispetto a quanto ne abbiano pompato in Spagna in Francia eccetera ecco io già mi attacco a questo a questa osservazione che non è di per sé controvertibile dal punto di vista dati però io di solito la Spagna nelle mie lezioni di economia internazionale così la cito come un caso che illustra illustra esattamente un problema di insostenibilità dell'economia perché perché come la stessa modern money theory sottolinea e non solo loro in realtà è la vecchia equazione di Cambridge dei tre settori estero pubblico e privato quando abbiamo un caso come la Spagna dove appunto il sistema privato pompa credito delle banche pompa credito e quindi abbiamo un settore delle famiglie e delle imprese che si indetta allo stesso tempo un sistema un settore pubblico che risparmia perché in quegli anni prima della crisi del 2007 2008 la Spagna era realizzata aveva realizzato dei surplus di bilancio e allo stesso tempo lo stesso sistema spagnolo aveva dei disavanzi nelle partite correnti beh questo vuole dire solo una cosa vuole dire che siamo in una zona della insostenibilità del sistema economico perché perché c'è un settore privato che continua a indebitarsi da un anno all'altro facendo aumentare il suo debito e infatti infatti poi è scoppiata la crisi in Spagna l'hanno subita severamente quindi il fatto che il PIL sia aumentato più che in Italia diciamo che non è di per sé l'unica cosa da considerare c'era un problema di insostenibilità questo vale anche per gli Stati Uniti vale per tanti paesi quando mandi il settore privato in eccesso di indebitamento prima o poi scoppia la crisi e anche qui parlare guardare i dati del debito totale può essere fuorviante perché noi possiamo guardare il debito totale ma c'è debito e debito innanzitutto nel debito totale dobbiamo considerare che ci sono relazioni tra settori ci sono settori che si indebitano e altri settori che vanno in surplus e poi c'è una differenza tra debito e debito nel senso che il debito pubblico in un paese solano è privo di rischio di fallimento invece dall'altro lato il debito privato il rischio di fallimento ce l'ha l'insostenibilità dell'economia non è il caso del Giappone in cui il debito pubblico cresce di anno in anno l'insostenibilità ce l'hai quando hai un debito privato che cresce di anno in anno e questo è esattamente il caso della Spagna quindi secondo me non è proprio il modello di un'economia dove il sistema funziona e quindi anche il pompare il credito bisogna un po' vedere in che contesto questo credito viene pompato ecco qui arrivo al secondo punto il credito c'è un'opera che ha avuto un libro che ha avuto successo di Richard Coe sul decennio di il classico Lost Decade in Giappone che parla della balance sheet recession e sottolinea che il sistema privato eccessivamente indebitato si è di fronte al crollo dei mercati azionari si è sostanzialmente rifiutato di reinvestire gli introiti per esempio dalla vendita dei propri prodotti industriali e li ha usati sostanzialmente per pagare per pagare per restituire i debiti alle banche quindi per ridurre il grado di indebitamento questo vuol dire che sostanzialmente in una crisi come quella che c'è stata e che c'è ancora in Italia è difficile pensare che il problema sia soltanto che le banche concedono poco credito il credito come dico tutta la letteratura post-kenesiana è trainato dalla domanda ci vuole anche la fiducia del sistema bancario verso chi vorrebbe prendere i soldi in prestito però soprattutto ci vuole chi prende i soldi in prestito e molto spesso il problema della crisi è che non ci sono persone che prendono che vorrebbero indebitarsi più di quanto non lo siano già anzi come nel caso del pone nella lost decade degli anni 90 c'è gente che voleva restituire i propri debiti proprio per ridurre l'indebitamento e dopo il 2007 2008 era esattamente questo il punto quindi noi possiamo anche convincere le banche a pompare credito ma se non c'è gente che vuole prendere prestiti questa cosa non serve cioè il credito è trainato dalla domanda prima di tutto e allora qui torniamo un po' al punto della proposta anch'io condivido che questa proposta di istituire dei conti correnti di risparmio alternativi al BTP può essere un'idea per evitare diversi problemi legati all'emissione del BTP tra cui lo spread e quant'altro di cui abbiamo già parlato Marco Cattano quindi non sto a sovrappormi quello che volevo dire è che in realtà qui siamo in una situazione in una situazione un po' strana con questa proposta cioè questa proposta per quanto possa risolvere il problema dell'emissione del BTP e dello spread non risolve per come la vedo io la questione dell'euro probabilmente non è questo lo scopo però qui il punto è durante la presentazione di Giovanni Zibordi non si è fatto cenno in alcun modo ai vincoli dell'euro si è fatto cenno al ricatto dello spread però il punto è cioè Giovanni Zibordi ha partito dicendo che abbiamo dovremmo fare un deficit più alto di quello che stiamo facendo più o meno dell'8% e questo può essere finanziato tranquillamente con risorse interne ora però queste risorse interne queste risorse interne a fronte di una banca centrale europea che non è disposta a finanziare il debito pubblico dell'8% e a fronte di una commissione europea che sanziona deficit dell'8% come probabilmente sarebbe pronta a fare noi possiamo anche cambiare il modo in cui lo Stato raccoglie i soldi non più con BTP ma con risparmi tratti da altre altre risorse però il punto è che se lo Stato non ha il permesso di spendere di più probabilmente questa raccolta alternativa non serve e anche il fatto di trasformare il debito pubblico in moneta per poterlo usare negli scambi presuppone che ci sia la possibilità di aumentare gli scambi grazie a questa nuova liquidità non è così scontato perché com'è che aumentano gli scambi aumenta se c'è un aumento dei redditi e della domanda da parte del settore privato oppure se c'è un aumento della spesa pubblica da parte del settore pubblico allora l'aumento della spesa pubblica dipende dalle decisioni che vengono concertate con il resto dell'Unione Europea anzi dell'area euro vabbè comunque dell'Unione Europea o Commissione Europea e quindi è dubbio che loro concedano allo Stato di spendere più di quello che già sta spendendo per quanto riguarda il settore privato cosa succede se noi rendiamo più liquido quindi trasformiamo il debito pubblico in moneta innanzitutto questa è un'operazione che è già storicamente avviene è avvenuta anche in altri contesti per esempio le banconote nell'ottocento erano considerate debito pubblico utilizzabile come moneta cioè poi uno poteva portare la banconota a fare e cambiarla a sua volta in allora c'era anche c'erano sistemi per cui la banconota non era nemmeno scambiabile con se stessa era scambiabile con loro quindi questa cosa qua consentiva alle banconote di circolare e questo era debito pubblico trasformato in moneta che è sempre una buona idea perché la moneta è debito che circola e che viene usato come mezzo di pagamento ma da sempre anche debito privato la cambiale e debito privato viene scambiato di mano in mano e usato come moneta quindi questo strumento in più certo semplifica aggiunge qualche cosa però di per sé non è che rivoluziona il concetto di debito che aggiunge che diciamo che cambia il modo in cui il sistema monetario funziona è debito trasformato in moneta però il punto è la gente che ha questa possibilità di accedere a questi conti e di spenderli li vorrà spendere cioè stiamo creando stiamo dando in mano ai risparmiatori qualche risorsa aggiuntiva che questi risparmiatori vorranno decidere non più di risparmiare ma di spendere allora mentre con la moneta fiscale io ho capito che si tratta appunto di aggiungere qualche cosa che non c'è di dare potere d'acquisto a persone che non ce l'hanno e quindi c'è una probabilità che queste persone possano spenderla con questa proposta io non vedo un'aggiunta di potere d'acquisto in mano al pubblico io vedo la sostituzione di BTP con un conto più conveniente comodo liquido ma di per sé stiamo dicendo tu che sei un risparmiatore anziché risparmiare in BTP risparmi in questi conti ok però il risparmiatore è sempre un risparmiatore come possiamo convincere il risparmiatore a diventare uno spenditore cioè a ridurre il suo risparmio perché solo così rilanciamo l'economia cioè non è rendendo più liquido il suo risparmio che rilanciamo l'economia perché allora ci sono anche i risparmiatori che tengono soldi in depositi che sono liquidissimi depositi bancari ma non li spendono perché c'è incertezza perché non hanno paura vogliono riserve liquide eccetera se non decidono di spenderli possiamo dargli tutta la liquidità che vogliamo ma questa liquidità non si traduce in spesa privata allora per riassumere non è garantito che una maggiore liquidità è il fatto di rendere il debito pubblico circolante come moneta si traduca effettivamente in una maggiore spesa privata l'unica alternativa sarebbe rendere dare la possibilità allo Stato di invece aumentare la propria spesa pubblica a posto del settore privato ma anche questo come possiamo garantirlo all'interno di questo contesto istituzionale in cui viviamo ci vorrebbe una banca centrale che permette allo Stato di spenderli questi soldi e questa non è garantito che ce l'abbiamo ce l'abbiamo avuta adesso in questi anni di pandemia però non è garantito che permarrà questa intenzione della BCE di finanziare il debito pubblico in futuro e anche se noi ci liberiamo dal ricatto dello spread dei BTP non ci liberiamo dalla Commissione Europea ecco credo che questo più o meno vada in parallelo con quello che diceva Marco Cattaneo prima nel senso che certo se poi riusciamo a ricondurre questa proposta all'interno dell'albe o della moneta fiscale allora lì il discorso cambia nel senso che a questo punto impediamo cioè diciamo non vincoliamo lo Stato a ripagare in euro i titolari di questi conti ma allora qui siamo in un contesto diverso ma non è quello che io ho sentito nella presentazione mi fermo qui spero di essere stato sufficientemente breve e chiaro grazie Marcello grazie grazie sei stato chiaro scusatemi per essere scomparso ho cambiato pc perché c'era un problema sul pc quindi vi chiedo scusa ne ho apporto un altro no allora ho ascoltato molto bene sia l'intervento di Marco che l'intervento di Marcello oltre che ovviamente la presentazione di Giovanni permettetemi di raccogliere questi stimoli di Marcello e di Marco visto che comunque l'amico Fabio Bonciani ha fatto una domanda che riprende un po' anche gli interventi di Marcello e di Marco e cioè lui dice l'incontro di oggi si chiama riformare il debito quindi riformare il debito pubblico allora come si può attuare la soluzione operativa dei conti correnti di risparmio in un contesto in cui non si dispone della propria banca centrale e della propria moneta questa è la domanda di Fabio Bonciani mi permetto di dare uno spunto per Marco Cattaneo e cioè intanto ti chiedo di rispondere a questa domanda di Fabio però dandoti un suggerimento e cioè Marco io so che tu fai parte del gruppo della moneta fiscale e appunto avete ideato questa proposta anche Giovanni aveva scritto il libro la soluzione per l'euro per cui in sostanza immettere liquidità ex nino nel sistema come diceva Marcello Pocanzi tu come vedresti uno schema Marco secondo cui la liquidità addizionale immessa nel sistema proviene attraverso moneta fiscale cioè uno strumento diciamo non defaultabile per definizione emesso dallo Stato italiano e invece utilizzare la soluzione operativa dei conti correnti di risparmio per appunto riformare il debito pubblico cioè riplasmarlo in questo tipo di forma proposta anche da Giovanni mantenendo comunque diciamo un equilibrio nei flussi di cassa entrata uscita in euro ma la vedrei bene scusa non so se hai completato la domanda si si prego prego la vedrei bene perché sostanzialmente il mio concetto è la liquidità dizionale la mettiamo nell'economia tramite strumenti di moneta fiscale cioè la capacità di spesa il potere d'acquisto eccetera eccetera e così trainiamo anche la capacità di spesa del privato e anche il credito privato poi perché come diceva Marcello effettivamente le banche prestano in primo luogo in funzione del fatto che qualcuno chieda credito ma si chiede credito quando c'è un'economia tonica un'economia che si sviluppa quindi progetti che partono investimenti il mercato immobiliare che riprende le aziende che vogliono rinnovare gli impianti creare capacità produttiva perché la domanda è cresciuta eccetera 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 quindi una cosa tra in all'altra la differenza è che il credito privato è prociclico quindi tende a essere troppo euforico quando le cose vanno bene e a deprimersi invece quando le cose non funzionano questo è il motivo per cui il deficit di bilancio pubblico deve svolgere una funzione anticiclica che è uno dei problemi fondamentali delle regole dell'euro che invece spingono anche il deficit di bilancio pubblico a essere prociclico e non anticiclico il concetto comunque utilizziamo la moneta fiscale che va benissimo anche lo strumento della moneta elettronica del tesoro a base fiscale per mettere capacità di spesa supplementare che potere d'acquisto nell'economia poi diamo anche la possibilità al titolare di BTP di convertirlo in conti correnti presso il tesoro perché così stabilizziamo la raccolta Cochrane in realtà ha in mente questo non ha in mente più di questo perché Cochrane non vive in un contesto in cui nessuno pensa qualcuno pensa che lo Stato americano che il governo federale americano abbia problemi a finanziarsi cioè ricordiamoci di questa fondamentale differenza lui ha fatto questa proposta la proposta fila perfettamente poi lui è il primo a dire in questa maniera taglio le gambe alle grandi banche istituzioni finanziarie banche d'affari perché gli faccio perdere commissione di collocamento e provenzi da trading speculativo e qui da qualche parte mi pare che abbia anche scritto qualcosa del genere quindi sarà ben dura che passi però ci tengo a mostrare che effettivamente collocare Tracerys non è affatto necessario per finanziare il deficit pubblico americano e questa è una conclusione che poi alla fine è omogenea all'MMT cioè bisogna un po' ribaltare il discorso uno Stato sovrano uno Stato che mette la sua moneta non ha bisogno di mettere titoli per finanziarsi può emettere direttamente moneta la moneta rimane nell'economia e crea risparmi finanziari che è questo se io sento ancora qualcuno proferire la bestialità che il problema degli Stati è che devono trovare risparmiatori disposti a comprare i titoli del debito pubblico se non finanziare la spesa ma se noi diamo la possibilità allo Stato di emettere la moneta la moneta poi crea essa stessa il risparmio finanziario e a questo punto il titolo di Stato se proprio lo vuoi emettere lo emetti successivamente per dare un impiego sicuro che garantisce un qualche tipo di rendimento al risparmiatore che non vuole correre rischi cioè questa è la funzione storica sensata del debito pubblico non quella di essere uno strumento per imporre determinate politiche agli Stati è una delle perversioni dell'euro comunque tornando a bomba quello che siccome il problema è sul tappeto adesso poi possiamo non fidarci di Draghi e poi non si capisce ancora se dopo l'elezione del Presidente della Repubblica lui nel 2022 rimarrà ancora capo del governo però sul tappeto c'è la revisione del patto di stabilità cioè le regole dell'eurozona e se c'è una cosa che Draghi ha detto ripetuto tante volte la ripeto ogni volta è che il patto di stabilità e crescita non funziona più me l'avessi detto dieci anni fa magari però anzi dice che era evidente che non funzionava già prima del covid figuriamoci adesso per cui va riformato però non si capisce che proposta abbia intenzione di fare la mia proposta in tutta modestia se io fossi Draghi sarebbe semplicemente di dire Carauè tu sei preoccupata per il debito pubblico che in Italia si trova a dover rimborsare in euro moneta che non emette quello ci impegniamo a ridurlo secondo un qualche tipo di traiettoria concordata poi la moneta fiscale è uno strumento puramente italiano che nessuno chiede a te di emettere nessuno chiede a te di garantire ok affari nostri noi ne mettiamo quanto ci serve per rivitalizzare l'economia portarla e mantenerla a pieno impiego se ne mettiamo troppa se ne mettiamo così tanta che poi in pratica il titolare non riuscirà a utilizzarla per pagare le tasse depaupereremo la moneta fiscale ma saranno affari nostri quindi l'euro il debito pubblico in euro concordiamo le regole con cui deve essere gestito che per assoluto potrebbero ancora anche essere quelle originarie del fiscal compact se a fianco di questo introduciamo la moneta fiscale e diamo quella leva di autonomia al governo italiano per come dire sviluppare le politiche necessarie dopodiché possiamo indubbiamente sostituire totalmente parzialmente non lo so al collocamento di BTP convertendo magari anche una parte di quelli in essere tutti quelli in essere se qualcuno se tutti lo desiderano in conti correnti presso il tesoro perché diamo così stabilità al finanziamento del debito da rimborsare in euro ma è un altro discorso ancora questo praticamente un'ottimidazione nella modalità di gestione di collocamento del debito pubblico comunque tutto parte dal concetto che è necessario introdurre una via per sviluppare il maggior introdurre nell'economia il maggior potere d'acquisto necessario per sviluppare una politica economica altrimenti questa riforma del patto di stabilità che è assolutamente indispensabile e Draghi lo dice ad ogni chiesospinto rischia di un avvenire che nel 2023 ci porta al disastro tanto per essere chiari per cui qualcosa succederà e se qualcosa deve succedere mettiamo sul tavolo le proposte per fare in modo che finalmente si ottenga un sistema funzionale non un sistema disfunzionalmente catastrofico come quello che abbiamo avuto in tutti questi anni Marcello mi leggo a quello che adesso ha detto Marco in conclusione sul possibile ottenimento appunto di ottimizzare quindi appunto riformare la gestione del debito pubblico con questa soluzione operativa dei conti correnti di risparmio e aggiungo questo se noi leggiamo il testo del disegno di legge depositato noi vediamo che vengono inclusi due attori in questo schema ossia un istituto bancario di proprietà al 100% pubblica che nel disegno di legge è riconosciuto come il medio credito centrale cioè appunto una banca che ha il 100% di proprietà del tesoro e poi abbiamo il tesoro stesso il tesoro stesso emette questo tipo di debito pubblico che si chiama perpetual con un solo acquirente ossia appunto il medio credito centrale il quale a sua volta medio credito centrale di proprietà al 100% del tesoro quindi dello scato offre questi conti correnti di risparmio ai risparmiatori ovviamente si potrebbe immaginare che l'infrastruttura fisica per questo tipo di meccanismo possa essere svolto dalle poste italiane tenendo presente che al momento le poste italiane offrono dei servizi di tipo bancario ma non hanno una licenza bancaria quindi si affidano anche loro a una banca che nel caso di poste italiane è Deutsche Bank quindi in sostanza se noi se lo Stato italiano invece in qualche modo reinternalizzasse il servizio bancario delle poste magari attraverso un medio credito centrale che fornisce questi conti correnti di risparmio e a sua volta ricevendo i fondi dai risparmiatori si ricapitalizza e quindi diciamo magari anche tenendo presente anche un coinvolgimento di cassa depositi e prestiti nei fatti tu avresti lo Stato italiano che ha ricostruito un proprio polo bancario ecco Marcello tu come vedi questo possibile scenario quindi questa proposta come appunto gestione del risparmio e anche come strumento per istituire un nuovo polo bancario pubblico allora io diciamo che non ho nulla contro la banca di Stato quindi chiaramente non mi oppongo cioè non vedo nessuna nessun argomento per diciamo così criticare l'idea che lo Stato possa dotarsi di un'infrastruttura bancaria alternativa a quella del sistema privato questa cosa potrebbe anche essere peraltro molto utile ai fini del collocamento degli stessi BTP perché farebbe ridurre la dipendenza dello Stato da investitori che provengono da altri istituti privati ok quindi non ho nulla in contrario a questa proposta peraltro un altro modo potrebbe sempre per ridurre non l'ho detto prima per diminuire il cosiddetto ricatto dello spread potrebbe essere anche quello di cui si è parlato tempo fa di riformare i meccanismi d'asta perché anche questo potrebbe aiutare comunque non usciamo fuori dal tema io quindi dico sono d'accordo all'idea che uno Stato possa dotarsi di un'infrastruttura di tipo bancario ricordo però che una cosa sono le banche una cosa sono altri istituti finanziari le banche hanno la caratteristica specifica di erogare credito emettendo emettendo moneta di tipo bancario ex novo ex nihilo ok quindi creano loro stesse moneta di tipo fiduciario ovviamente ancorata all'unità di conto decise dallo Stato eccetera qui però ancora una volta stiamo parlando di un'infrastruttura che raccoglie risparmio per investire cioè per serve un po' come intermediario finanziario nel senso che è vista come un raccoglitore di risparmio per canalizzarlo verso un certo tipo di spesa che va bene però non è questo esattamente il mestiere delle banche cioè il mestiere delle banche dovrebbe essere quella di erogare credito sulla base di io sono molto schumpeteriano da questo punto di vista sulla base di una visione sul potenziale successo di un progetto di investimento magari innovativo quindi hanno il ruolo degli famosi efori dell'economia di scambio selettori di progetti alternativi ok ecco l'infrastruttura di questo tipo come quella descritta non cioè di per sé non è che attribuisce allo Stato questo ruolo ok di fare di creare credito per finanziare progetti di investimento a meno che a meno che ripeto e ritorno qui sul punto il soggetto spenditore non sia l'imprenditore privato ma lo Stato stesso per cui torniamo al punto di partenza lo Stato stesso in questo contesto istituzionale è in grado di spendere di più anch'io mi auguro che adesso nella trattativa che partirà se partirà insomma nei prossimi mesi si riesca a strappare dai nostri cosiddetti partner europei un pochino più di flessibilità sulle capacità di spesa dello Stato italiano sono molto pessimista perché non vedo così anche nonostante Mario Draghi sia da molti descritto come illuminato insomma da questo punto di vista però non mi pare che spingerà tantissimo in questa direzione però il punto è se se noi non siamo non ci mettiamo non cambiamo il contesto istituzionale che consente allo Stato di spendere più di quello che spende già noi possiamo anche creare l'infrastruttura bancaria ma non non abbiamo ancora tutte le premesse per poter generare risorse finanziarie aggiuntive a disposizione di chi desidera spenderlo ecco questo è un po' il problema tu come lo vedi un'ipotesi come quella proposta da Marco e cioè che lo stesso progetto moneta fiscale diventi in so stesso la proposta di riforma da parte dell'Italia del patto di stabilità cioè in pratica diventa un accordo intergovernativo cioè senza cambiare formalmente il patto di stabilità che quindi rimarrebbe con le attuali regole vi è un accordo diciamo quindi condiviso per cui nei fatti lo Stato italiano o qualunque altro Stato membro dell'Eurozona può aumentare la propria capacità di spesa immettendo moneta fiscale nel sistema ok quindi quello è lo strumento per aggiungere liquidità addizionale ex nilo ok ecco tu come la vedi questa ipotesi cioè capisci perché se noi ragioniamo in questa ipotesi qui allora l'eventuale problema che tu dicevi del fatto che in sostanza le banche ti danno il cappello l'ombrello quando c'è il sole te lo tolgono quando c'è la pioggia diciamo così no ok cioè se noi riusciamo a immettere quello strumento che serve a stimolare la domanda interna ok diciamo questa cosa qui potrebbe poi attivare diciamo un percorso tale per cui a cascata si può anche generare ulteriore formazione di risparmio finanziario privato tecnicamente sì è molto semplice cioè secondo me è assolutamente una via attraverso cui è possibile ottenere questo obiettivo forse è più realistica rispetto a trattare su un aumento del deficit fiscale del Stato forse non saprei dire io ho il sospetto che il vero problema della moneta fiscale che ripeto dal punto di vista dello strumento tecnico mi sembra che sia stata veramente approfondita negli ultimi anni al punto che diciamo non esistono più critiche dal punto di vista tecnico così strutturali e radicali a questo progetto nel senso che il problema è più politico che tecnico e quindi anche qui proporre agli altri paesi europei di permettere all'Italia di introdurre la moneta fiscale potrebbe essere più un problema politico che tecnico però appunto la domanda che mi hai fatto non era tanto questa era se se può funzionare e la risposta mia è sì può funzionare sicuramente ammesso che gli altri accettano di farcela adottare questa moneta fiscale senza portarci nella corte di giustizia europea allora Giovanni guarda scusa chiedo scusa a te anche agli altri per diciamo così qualche contrattempo tecnico da parte mia allora tu hai fatto la tua presentazione mi senti Giovanni sì dicevo tu hai fatto la tua presentazione hai sentito anche che ti ho portato due diciamo così di scassa un po' tosti insomma che ti hanno fatto un po' le pulci però ovviamente lo fanno proprio per far esaltare degli ulteriori elementi della proposta ok quindi lascio a te la parola in modo tale che anche tu possa un po' commentare la discussione e rispondere a eventuali obiezioni sì allora per stare dentro 48 slide o 55 minuti io potevo o concentrarmi come faceva poi Cochran se uno lo va a leggere lui parte da un presupposto che il debito pubblico americano diventerà anche lui insostenibile perché lui è uno di quelli che ragiona così lui non è della MMT quindi lui parte dal punto di vista per cui anche l'America un bel giorno avrà un problema col debito come ad esempio l'ha avuto l'Italia perché l'inflazione adesso è il 6,5% magari arriva al 10% e a quel punto anche l'America può avere un problema allora lui parte da quello e poi spiega la proposta andando molto in dettaglio che è una permessa molto semplice uno può non essere d'accordo con Cochran dirgli ma guarda tu sei un paese sovrano con la moneta sovrana poi sei il dollaro eccetera e lui ti dice ma no se l'inflazione come adesso va al 10% al 6% arriva all'8% al 9% eccetera poi magari anche il dollaro ha dei problemi eccetera che sia giusto o sbagliato questa è la sua premessa e dopo entra nel merito di una proposta tecnica io ho provato invece a tenere al minimo la parte tecnica e invece provare a dare una prospettiva leggermente diversa dal solito ho fatto l'esempio in particolare della Francia e poi in particolare di nessun paese del mondo ho detto guardate che io lavoro nei mercati finanziari faccio trading e vedo proprio crescere questa montagna di titoli di debito di derivati eccetera anno per anno e tutti che ne parlano tutti che ne parlano però riescono ancora le banche centrali a tenere per aria la palla senza farla cadere e questo fenomeno che continua a crescere crescere sempre più debito dappertutto nel mondo tutti spingono attraverso i soldi la Cina l'America specialmente il Giappone con l'unica eccezione della Germania ma tutti gli altri paesi spingono col debito spingono coi soldi l'economia la spingono coi soldi fanno deficit e pompano il credito fanno deficit e pompano il credito noi siamo gli unici che non lo facciamo quindi l'euro non c'entra proprio niente se l'euro c'entrasse la Francia avrebbe fatto come l'Italia perché la Francia ha meno produzione industriale dell'Italia e ha un deficit estero cronico l'Italia ha un surplus con l'estero da 7 anni e ce l'aveva prima del 2006 e ha una produzione industriale maggiore della Francia quindi se la Francia ha aumentato gli stipendi al 31% l'Italia ha fatto calare del 3% l'euro non c'entra niente cioè questa è proprio una cosa che non so perché non si riesca a farla capire alla gente la Francia non è un paese più efficiente come il ministro pubblico possiamo fare tante discussioni sulla produttività però è un paese che è in deficit con l'estero ha meno produzione industriale e anche come risparmio e ricchezza finanziaria è paragonabile all'Italia come anche loro hanno gli stipendi che sono aumentati al 31% il PIL aumentato al 30% e noi 0 il PIL e meno 3 gli stipendi bisogna che ci poniamo questo problema e la soluzione è capire che loro hanno come ha fatto la Cina l'America e tutti pompato soldi pompato soldi in tutti i modi possibili immaginabili in particolare con il debito allora io mi sono molto speso su questa storia per toglierci da quest'idea provinciale che noi dentro l'euro poverini eccetera voglio dire siamo l'unico paese al mondo e l'unico paese in Europa oltre alla Grecia che ha avuto tutti questi problemi quindi ci deve essere per forza qualcosa di particolare e non è la produttività perché la produttività dell'Italia dell'Inghilterra del Giappone della Spagna ad esempio faccio quegli esempi in genere Giappone Spagna Inghilterra e l'Italia hanno la stessa produttività e allora com'è che l'Inghilterra ha fatto aumentare il PIL la Spagna un po' l'ha fatta aumentare a differenza dell'Italia il Giappone l'ha fatta aumentare noi no non è la produttività non è la produzione industriale non è la sostenibilità del debito estero perché noi ne abbiamo poco il debito estero è il meccanismo finanziario le banche le banche italiane da qualunque punto di vista fanno un sacco di soldi perché sono molto profitteboli ma non danno soldi a nessuno le banche tedesche non guadagnano niente in borsa hanno perso il 90% quelle pubbliche hanno sempre perso soldi hanno un sistema finanziario che non guadagna niente e però pompa soldi nell'economia e lo stesso in Cina in Giappone hanno banche che non guadagnano niente ma pompano soldi nell'economia e io niente ho provato su questa strada a dire il contesto in cui dobbiamo ragionare è quello di finanziare di più l'economia italiana lo Stato le imprese le famiglie va finanziato di più in Cina hanno il concetto di total social financing che pubblicano ogni mese è un numero che dice quanti soldi sono entrati nell'economia dal mercato obbligazionario dal mercato azionario e dalle banche e sono entrati nell'economia e lo chiamano finanziamento sociale totale loro sono molto diretti i cinesi e se uno facesse quel calcolo per l'Italia scopre che la borsa non ha finanziato niente il mercato obbligazionario è asfittico lo Stato ha sempre fatto avanzi primari e le banche hanno tagliato il credito del 25% alle imprese l'unico caso sulla terra quindi noi abbiamo un problema di sottofinanziamento abbiamo un'economia che non è stata finanziata e il motivo principale non è l'euro ma l'incompetenza totale della classe politica dirigente italiana e anche dell'opportunismo e della corruzione per cui loro hanno svenduto sostanzialmente le banche agli investitori esteri i quali io ho fatto un articolo che è stato respinto da tutti perché voglio dire anche Porro ha detto ma non posso pubblicarlo Milano Finanza ha detto non posso pubblicarlo la settimana scorsa in cui facevo vedere e alla fine solo Bio Blue l'ha messo con un'intervista e facevo vedere che su 940 miliardi che ha a bilancio Unicredit ne presta 470 hanno tirato 90 miliardi dalle famiglie col covid e hanno prestato 4 miliardi nonostante Draghi gli abbia dato le garanzie del 90% loro cosa hanno fatto prendevano i soldi di Draghi garantiti al 90% e dicevano ai clienti guarda chiudiamo questa linea di credito che non è garantita e ne apriamo una e il risultato è zero hanno tirato 90 miliardi dalle famiglie hanno 180 miliardi in cash 940 miliardi a bilancio e ne prestano 470 bisogna entrare proprio nel merito dei bilanci delle banche e con le banche o nel caso dell'America che è l'unica eccezione anche il mercato obbligazionario azionario ma l'America è particolare l'America ha un mercato talmente enorme che finanzia l'economia il resto del mondo lo finanzia con le banche e se non puoi farlo con le banche facciamolo con i deficit e come facciamo a fare i deficit dobbiamo fare dei deficit il mondo va avanti a debito ecco allora detto tutto questo che è il contesto che è la premessa entrando nel merito è chiaro che questi sono euro questi sono euro cioè il discorso che fa la prima cosa che ha detto Marco è dice ma viene rimborsato in euro io non sono stato a specificare bene tutti i passaggi uno per uno perché appunto ho detto sto dentro 48 slide e dentro un'ora però è ovvio puoi pagarsi le tasse certo lo Stato dice vuoi fare un pagamento di tasse però questi sono euro usi il banco ma tu usi la carta di credito fai un bonifico fai un prelievo questi sono euro è un'emissione di titoli titoli di Stato come i BTP ma a differenza dei BTP non scadono sono permanenti che sono stati storicamente alcuni esempi nella storia i console eccetera adesso sono passati di moda però sono esistiti soprattutto nell'ottocento è una cosa che è prevista legalmente nessuno può dirti niente nessuno all'Unione Europea può obiettare se l'Italia mette dei titoli senza scadenza però tu gli aggiungi il fatto tecnologico che è puramente tecnico e quindi non ti possono dire niente perché tu dici ma è un'innovazione tecnica vuoi adebitare su questo titolo permanente che io Stato italiano ho venduto al posto del BTP a 7 anni ho venduto questo titolo senza scadenza in cui permetto tramite una piattaforma elettronica integrata i pagamenti bim bum bam che ha i sistemi di pagamenti elettronici istantanei gratuiti ormai sono da Square Paypal sono la moda degli ultimi anni io permetto di adebitare direttamente un'innovazione tecnologica e le innovazioni tecnologiche non puoi ostacolarle quindi non puoi dire niente sull'emissione di un titolo permanente non puoi dire niente sul fatto tecnico e quindi da questo punto di vista voglio dire se poi fai un deficit dell'8% e l'Unione Europea non è d'accordo tu dici beh io lo faccio lo stesso e loro non possono farti niente perché non hanno modi legali di penalizzare un paese hanno sempre il ruolo del mercato finanziario che scatenano contro di te qui non possono farle quindi puoi fare un deficit dell'8% con il deficit dell'8% stimoli l'economia vuoi ridurre le tasse riduci le tasse vuoi aumentare la spesa pubblica per la sanità aumenti vuoi fare le infrastrutture fai quello che vuoi invece di portare il deficit di nuovo verso il 3% come ha detto scritto Draghi nella manovra che è 5,4 quest'anno 4,5 l'anno prossimo poi di nuovo lui torna verso il 3,5 e per lui rimanere tra il 3 e il 4% e già rompere il patto di stabilità non si può ragionare così questo è un paese in via d'estinzione dove tutti i giovani vanno via perché gli stipendi sono 1200 euro tu devi fare qualcosa di radicale un 8% di deficit e questo è un sistema per farlo e se tu vuoi spingere l'economia italiana hai due modi uno è quello che usa la Francia e l'Ulanda e tutto il resto del mondo l'Asia eccetera che è pompare denaro sotto forma di credito e l'altro è fare dei deficit molto ampi e questo è un sistema che ha usato l'America in un modo quasi scandaloso negli ultimi due anni ultimamente anche Mosle non sa cosa dire perché quando fanno il 22% di deficit annuo e l'inflazione del 6% siamo andati molto oltre la MMT giusto la MMT stessa quando l'inflazione comincia ad arrivare al 6% comincia a dire beh forse devi ridurre il deficit l'America ha preso la MMT e l'ha portata al quadrato allora noi non possiamo ovviamente andare così all'estremo però possiamo ragionare sul fatto che con il covid hanno fatto il 12% di deficit quindi gli puoi dire abbiamo visto tutti che si può fare siccome la BCE può togliere il supporto ne troviamo un altro di supporto non c'è quella della BCE l'anno prossimo usiamo i risparmi degli italiani facciamo un deficit dell'8% questo è il succo del discorso politico che io non so proverei a fare a quelli della Meloni perché sono gli unici all'opposizione se uno vuole provare come ha fatto Fabio ho fatto vedere l'esempio della Ricciardi la senatrice sua amica che ha presentato questo disegno di legge in cui l'ha chiamato conti correnti di risparmio che non c'entra niente con l'idea di Cochran perché non vuole farsi notare io l'ho discusso con Fabio alla morte ho detto guarda che non sono conti correnti di risparmio conti correnti di risparmio sono quelli che ti offre la banca da 30 anni questa qua è una cosa diversa però lui giustamente ha detto no all'interno della logica del Movimento 5 Stelle che ha il governo con Draghi eccetera devi camuffarlo devi stare sotto traccia e devi presentarlo come una cosa innocua molto così minima e se vuoi ragionare in questi temi io sono anche d'accordo politicamente si fa tutto al mondo giusto quindi vuoi chiamare i conti correnti di risparmio sperando che così Draghi e Franco non se ne accorgano secondo me ci mettono 5 minuti d'accordo se ne è gente che ne ha viste di tutti i colori però lo stesso può essere che sia la strada corretta per chi è al governo come questi del Movimento 5 Stelle e suoi amici quello che io dico è che secondo me è forse efficace provare a convincere il pubblico italiano invece che puoi grazie alla tecnologia trasformare il debito pubblico in qualcosa che tu usi togliere soldi dalle banche che appunto non usano i soldi in Italia è uno scandalo non puoi dirlo perché ripeto io ho pubblicato su Milano Finanza una dozzina di articoli abbiamo scritto questo qua e Giulio Saverni a Letta ci ha detto ma ragazzi secondo voi ve lo pubblicano parlate di Unicredit non puoi dire qualcosa sulle banche le banche sono il tabù più di qualunque altra cosa al mondo nessuno può parlare delle banche in Italia da nessuna parte in nessun giornale le banche però sono il tumore dell'economia italiana e le grandi banche in particolare non quelle piccole quindi sarebbe bello poter aggredire il nodo delle grandi banche non è facile anche per un partito d'opposizione se ti metti a dire nazionalizza le banche anche solo una è una strada molto in salita cos'altro puoi fare e questa è una cosa che non ha ostacoli non ha ostacoli legali non ha ostacoli all'interno dell'Unione Europea e dei trattati europei poi vuoi uscire dall'euro quello riprendiamo un discorso vecchio e non sto a farlo non è realistico ti passano la moneta fiscale speriamo se non la passano perché cambiano le regole contabili e lì lo possono fare di cambiare le regole contabili se proprio sono alle strette e vedono che tu fai 50 60 70 miliardi di moneta fiscale dicono vabbè 10 li facciamo fare 50 no perché cambia tutti gli equilibri allora hai anche questa possibilità in più ecco però diciamo ritornando alla prima cosa certo che sono euro è ovvio questi qua sono euro entrano ed escono così come i soldi in banca sono euro i soldi che tu hai depositato in un certo senso presso il tesoro comprando un titolo senza scadenza che possiamo chiamare non so buono del tesoro permanente BPP invece che BTP ecco questi sono normali soldi che tu puoi addebitare accreditare in qualunque altro modo con qualunque sistema di pagamento non c'è tutto il problema dell'accettazione è chiaro che chiunque te li accetta perché nel momento in cui tu usi una carta di credito una carta di debito a un banco ma sui tuoi 100 mila euro che hai messo in questi titoli tu ci paghi una pizza ed è automatico ti vengono addebitati i 10 euro della pizza più la birra e ovviamente sono euro ecco questo e il discorso delle tasse anche questo è ovvio cioè se tu vuoi pagare direttamente l'agenzia delle entrate paghi direttamente l'agenzia delle entrate ma dato che sono euro il problema non si pone ci paghi qualunque cosa diventano uno strumento di pagamento il BTP diventa uno strumento di pagamento e diciamo che l'idea che questi soldi si muovano di più è in due passaggi cioè il primo passaggio è che questi soldi vanno a finanziare un deficit maggiore poi col deficit maggiore ci sarà un aumento di circolazione tramite riduzione di tasse e aumenti di spesa nell'economia è chiaro che la propensione della gente a spendere rimane uguale perché tu avevi soldi presso unicredit adesso ce li hai presso il tesoro dal tuo punto di vista tu stai forse più tranquillo o forse ricevi un rendimento migliore o forse hai anche una soluzione tecnicamente più conveniente perché non hai più da preoccuparti odio sui titoli odio sui fondi odio sui conto corrente dal punto di vista della persona dal punto di vista dello Stato tu diventi finalmente uno Stato che può anche trattare con l'Unione Europea da pari a pari dire ragazzi io ho bisogno di fare un deficit dell'8% ne abbiamo fatto un 12 con conto ne facciamo un 8 il mercato finanziario non può farmi niente cosa mi fate però ripeto si può insistere sui dettagli tecnici della proposta oppure si può provare come ho fatto io un po' stasera a illustrare il come dire il contesto e io insisto molto su questa cosa cioè se tu non fai questa cosa le banche centrali entro un anno due anni faranno lavoro questa cosa è scritto dappertutto è dichiarato dappertutto l'ha detto la Lagarde l'ha detto tutte le banche centrali loro per cercare di fermare la prossima crisi che sarà molto più grossa perché ho fatto vedere all'inizio 300 mila miliardi di debito nel mondo allora loro vorranno che tutti abbiano un conto corrente presso la banca centrale ci sono centinaia di storie di articoli di discussioni su questa cosa e tutti sanno che lo stanno per fare in Cina praticamente l'hanno già fatto in Cina tutti i soldi sono elettronici sono digitali non c'è il contante e la banca centrale controlla in pratica tutto anche se formalmente non ha il conto presso di lei però di fatto loro sono già un passo avanti l'unico modo che hanno per cercare di evitare un'altra crisi come quella di lei ma che sarà molto più grossa perché la quantità di tutto di titoli di azioni di derivati è il doppio praticamente è avere il controllo diretto presso la banca centrale del denaro quindi non ti devi più preoccupare che saltino le banche perché perché tu hai spostato i soldi della maggior parte della gente direttamente alla BCE a Francoforte e la BCE quindi può metterti dei tassi di interesse negativi se ritiene che sia necessario possono aggiungere soldi togliere soldi fare la politica fiscale loro eccetera quindi il mondo sta già andando in questa direzione di togliere i soldi dalle banche alla gente e farglieli mettere presso la banca centrale Cochrane discute questa cosa dice ma no non è corretto non è giusto accentrare tutto il potere nella banca centrale è meglio che sia il tesoro lo Stato il governo nazionale rappresentato nel Parlamento a prendere questa funzione se lasciamo che la banca centrale oltre a tutto quello che ha di potere adesso che in pratica ti finanzi i deficit in più possa anche come hanno già annunciato e ha un nome il BDC il Central Bank Digital Money entro un anno o due loro abbiano annuncino che tutti possono avere il conto presso la banca centrale poi inizia la campagna di propaganda ovviamente tutti diranno ah bellissimo come con il Covid e la gente comincia a spostare i soldi alla banca centrale dopo è troppo tardi dopo non puoi più farlo diciamo però diciamo l'unico modo di mettere i bastoni tra le ruote è di dire no possiamo avere il conto presso il tesoro non è necessario mandare i soldi a Francoforte come volete fare voi ecco e quindi diciamo ci sono parecchie cose importanti che girano intorno a questa questione proprio la questione di quanto debito c'è nel mondo della prossima crisi finanziaria e anche proprio di che cosa diciamo sia il denaro ma in termini pratici tu vuoi fare dei deficit all'8% per stimolare l'economia e io mi pongo il problema e dico come faccio a fare un deficit all'8% con Draghi è scritto nel suo documento che torniamo al 4% e poi forse al 3,5% l'avete visto il documento della manovra finanziaria bisogna proporre qualcos'altro Giovanni guarda prima di accomiatarci ti faccio un'ultima domanda ok che è una domanda tecnica velocissima allora in effetti ti dico è vero che leggendo i bilanci delle banche italiane c'è questa diciamo anomalia di tutta questa liquidità presente sui conti che in sostanza è non investita no ok diciamo o comunque sicuramente non investita nel mercato interno questo è poco ma sicuro ok tu nella tua proposta cioè la proposta di Cochrane come quale funzione vedi per quanto riguarda il tasso interesse cioè come andrebbe regolato allora Cochrane ci fa 20 pagine di matematica però alla fine della fiera lui propone tre tipi di titoli indicizzati non indicizzati tasso variabile io cioè onestamente voglio dire se uno si mette su questa strada è molto delicato però la sostanza e secondo me lui forse è d'accordo perché lui ha letto il mio articolo e il mio articolo io ho detto la sostanza è che lo Stato deve avere la discrezione non c'è nessun meccanismo automatico non lo agganci a niente neanche all'inflazione puoi agganciarlo all'inflazione se vuoi ma il modo con cui l'avevo divulgata io in italiano che lui poi l'ha anche letto e non ha trovato un errore era di dire al di là di tutti i tecnicismi delle cose complicate che lui propone perché lui propone anche delle cose diciamo con degli swap per gestire altre cose sul tasso di interesse gli economisti si scatenano però la sostanza è che è discrezionale quindi se ad esempio adesso l'inflazione va al 5% e la BCE tiene i tassi a 0 e i BTP adesso sono all'1 facciamo la situazione attuale l'inflazione sta andando verso il 5 è il 4,5 in Europa in Italia il 3,8 alcuni paesi sono già al 5 e i tassi di interesse sono a 0 e il BTP è a 1 allora prova a pensare in termini pratici supponiamo che il governo l'abbia fatto tu cosa fai? secondo me se tu offri lo stesso tasso del BTP o leggermente superiore offri un affare perché se tu compri titoli americani rischi sul cambio se tu come si è visto il dollaro va sempre su e l'euro va sempre giù da un anno se tu compri titoli del nord Europa ci perdi perché è 0 il rendimento e il rischio è che hai dei periti in conto capitale molto maggiori i BTP sono buoni rispetto agli altri ma non li prende nessuno perché non li prende nessuno? perché hai paura che con i BTP si ammala Draghi Draghi va a fare il presidente del consiglio il giorno dopo il BTP fa meno 10 perché voglio dire voi lo sapete se Draghi dice sono rotto per una serie di motivi non fa più il presidente del consiglio va a fare il presidente della repubblica e non ha più il controllo delle leve dell'economia lui il BTP fa meno 10 subito proprio quel giorno che lui l'annuncia allora la gente non li compra tu cosa fai? dici io ti offro un rendimento come il BTP non ti faccio le oscillazioni del BTP perché ti rimborso se tu vuoi i soldi oppure te li faccio bonificare dove ti pare e secondo me è una decisione politica il ministero del tesoro decide se l'inflazione continua a salire puoi anche aumentare un po' rispetto al BTP però anche leggendo la cosa di Cochran lui alla fine dice ma sì non puoi fissare una regola devi semplicemente dire il ministero del tesoro se vuole attirare più soldi ti offre un po' di più se ha paura se ha paura che le banche rimangano con troppi pochi soldi può anche abbassare il tasso è una questione politica di compatibilità tra il sistema bancario che potrebbe anche avere un'emorragia di soldi e allora abbassa il rendimento oppure tu vuoi invece averne di più a convincere la gente allora lo alzi un po' non c'è una regola c'è un sacco di matematica nel paper di Cochran ma alla fine anche lui è d'accordo che devi farlo in modo discrezionale sì sì no ma tu comunque descrivendo questa discrezionalità hai già dato degli indirizzi perché ad esempio quando tu dici regolare sulla base dell'obiettivo di liquidità che si pone lo Stato perché magari tu stesso hai detto magari lo Stato non vuole che la liquidità in mano alle banche scenda troppo quindi ovviamente lo strumento di regolazione che ha è il tasso di interesse e va bene va bene ragazzi ragazzi vi ringrazio tantissimo anzitutto devo sono obbligato a ringraziare l'associazione Sottosopra di cui mi onoro di fare parte per aver organizzato questo appuntamento al grande Gian Domenico Potestio alla regia che ha dovuto affrontare problemi di ogni tipo ringrazio la pazienza dei discussant diciamo dei correlatori e anche del relatore e spero che insomma questo momento di approfondimento sia potuto essere utile per chiunque ha voluto seguirci vi ringrazio e vi saluto grazie a te a rileggio a tutti grazie grazie a tutti